Tutemun, dimmi la verità, anche tu detesti i crypto fanboy, quelli che quando ti incontrano ti fanno una testa così con bitcoin, le cripto, la finanza decentralizzata, e sembra che esista solo quello, ma soprattutto sembra che tu domani non potrai andare a fare la spesa con la tua comodissima carta di credito American Express appena fatta, sperando che non sia sospesa, e dovrai per forza usare bitcoin. Ti sembrano degli scimuniti, vero? Confessa. Eh, devo dire che ti do perfettamente ragione, sono il lato brutto del mondo cripto, ma ti do ragione anche su un'altra cosa, ti do ragione sul fatto che al momento delle criptovalute e di bitcoin non fanno assolutamente nulla, nel senso che la percentuale di transazioni che sono effettivamente il loro scopo è totalmente ridicola. La stragrande maggioranza delle transazioni non sono altro che ciro e rigiro e rigiro finanziario, avviluppato su se stesso di solito a leva, che è peggio dei peggiori derivati impacchettati da certe banche. Al momento stanno fallendo la loro mission aziendale, diciamo. La loro mission che era liberalizzare i pagamenti, al momento non funziona. Quindi è una tecnologia bellissima, devo dire bellissima, ma della quale al momento onestamente bisogno, io non ne ho, non so tu, ma io non ne ho, salvo una piccola parte messa da parte perché non si sa mai. Ma allora, perché vi propino un video da due ore e mezza, e dico due ore e mezza, anticipo già la durata di questo video, secondo me siamo, dopo vediamo se ero azzeccato, due ore e mezza su questa roba qui? Eh, perché era una tecnologia bella. E già questo basterebbe, cioè già il fatto che sia una tecnologia bella basterebbe per dire merita di essere studiata. Non dimentichiamo che i matematici studiano robe inutili dall'alba dei tempi, anzi no, forse i primi matematici forse studiavano robe un po' più utili, però già sì, ad esempio, servivano per misurare i campi, in una casa è stata la geometria la prima cosa. Però già dopo un po' i numeri di fibonacci, sono mai servite qualcosa? Sì, lo so, adesso mi scriverete che sono servite qualcosa? Non ci credo. Quindi già di per sé, persa una bella tecnologia, merita di essere studiata. Non si sa mai, un giorno potrebbe servire. Ma c'è un altro motivo, molto molto più prosaico. Ci sono tecnologie che ci mettono del tempo per partire. Ora, c'è un video di Marco Montemagno, che adesso non linko per evitare che poi mi venga buttato giù questo video, in cui lui racconta proprio la storia di quando era praticante avvocato e arrivò il suo, un rappresentante di internet a propinare l'email al suo Dominus. E il suo Dominus gli ha detto, ma cosa abbiamo bisogno di quella roba? Abbiamo già il fax. E lui gli dava ragione. Le tecnologie ci mettono tempo a partire, ci mettono tempo, qualcuna muore en passant. Ad esempio, facciamo subito degli esempi di tecnologie morte, di tecnologie che hanno avuto anche un buon successo oppure erano molto promettenti. La prima è Second Life e voi direte Second che? Ecco, vedete che è morta? Second Life, vi assicuro, era praticamente ogni giorno sui telegiornali di 15 anni fa. Io me la ricordo, me la ricordo molto bene. Adesso si sono dimenticata veramente tutti. Addirittura era talmente, era praticamente una sorta di metaverso, ma metaverso di 15 anni fa. C'erano anche i Linden Dollar, che era la moneta di Second Life. Addirittura era così famosa che certi partiti politici italiani avevano aperto la sede su Second Life. Cioè roba che neanche adesso l'hanno fatto. Cioè neanche adesso ci sono partiti che aprono la sede in un metaverso. E funzionava, e funzionava. Poi chissà perché è morta. Forse è morta perché non ha sopportato il passaggio al mobile. Cioè era per computer, chiaramente, 15 anni fa. Un'altra cosa che sembrava il futuro ed è morta subito, il Google Glasses. Degli occhiali con telecamera in mezzo ti facciano vedere realtà aumentata o quelle persone nude, non lo so, qualcosa del genere. Non li ho mai avuti. Ecco, il lancio in pompa magna sembrava un successone. Sembrava che da lì a due anni anch'io ho convinto tutti i Google Glasses. E invece Nisba, Google Glasses non se ne più sento parlare. Tutte le tecnologie possono morire, possono esplodere, possono esplodere piano, come è successo con internet, oppure possono anche semplicemente crescere e poi stare lì a mezza via. Non devono necessariamente esplodere. Passiamo a internet. Intanto per darvi un'idea, se non siete così anziani come me, questo è un sito internet del 1994. Vedete, Newsflash dice che... cosa ha fatto? Datafellos.fi, un sito finlandese, ha vinto due prestigiosi premi. Ah no. No no, Vineyard ha vinto un premio e Microsoft ha scelto F-Prot come antivirus. Me lo ricordo F-Prot, c'è un rumore di una scorreggia. Ok, il 1994. Questo non è un pezzettino di un sito, è tutta la schermata principale del sito. Tutta la schermata principale. Internet. Io ho fatto il mio primo accesso a internet nel 1991. Tra l'altro ho mandato la mia prima email invece nel 1990 sulla rete Bitnet, tanto per bullarmi un po'. Primo accesso a internet nel 1991. Non serviva una mazza di niente. O meglio, serviva per mandarci email tra di noi. Però, onestamente, erano le stesse persone che frequentavano il laboratorio e quindi... è vero, qualora uno fosse assente, gli mandavi l'email e lui il giorno dopo la leggeva. Però, insomma, potevi anche dire a un altro di dirglielo. Era uguale. Più o meno come il fax. Cioè, tanto c'eravamo il fax. Tanto per darvi un'idea di che periodo fosse, all'epoca, i nostri sistemisti all'università loggavano tutto su carta. Cioè, c'era una stampante sempre funzionante che ogni riga di log del traffico internet veniva scritta su carta. Così, se un hacker avesse potuto entrare nel sistema, non avrebbe potuto comunque cancellare la carta. C'era questa roba. C'era uno stanzino, questa stampante che continuava a scrivere. Ok. Internet non serviva potente a una mazza. Forse l'unico utilizzo sensato era scrivere al mio supervisor che stava in California, ma onestamente poteva anche tranquillamente telefonargli. Tanto per telefono dell'università era anche per buoni motivi. Quindi utilizzo quasi nulla. Fino a fine anni 90 internet aveva sostanzialmente un utilizzo pressoché ludico, informativo. Non ci facevi nulla. E anche fino al 2007, 2008, 2009. Cioè, aveva un utilizzo serio per quelli come noi. Ma la massa, per la massa, era veramente una roba strampalata. Era una roba strampalata esattamente come adesso la crypto strampalata. Come se ti parla di bitcoin tu non è che ce li hai in tasca. Io sì. Non è che ce li hai in tasca. Sono una roba strampalata per te. È esattamente più o meno periodo 2000-2007 per la gran massa di persone internet era così. Tanto per darvi un'idea di quanto fosse strampalato avere internet all'epoca, nel 2007 comprai un appartamento. Vado lì per parlare con i proprietari precedenti e dico, scusi, ma dov'è il telefono? Le prese del telefono? Mi guardano. Faccio notare che all'epoca i smartphone non avevano internet. O meglio, il mio ce l'aveva, ma con molta fatica. Ma normalmente non esisteva gli smartphone, quindi no internet. No internet sul cellulare. Internet era per forza su PC. Mi guardano e mi fanno, ma telefono? Noi non abbiamo bisogno, usiamo il cellulare. Ok, vabbè. Internet, questi qui, non sa neanche dove sta di casa. Ok. Mi avevano murato col cemento, mi avevano chiuso la presa del telefono, che dopo le bestemmie mie e dell'Umino Telecom, quando l'abbiamo dovuta far rimettere, chiaramente. Grazie a voi, adesso ho la vecchia casa che ha la presa del telefono che fa un giro assurdo. Il cemento armato ci avete messo, mannaggia. Ok, quindi internet era praticamente inesistente. Vediamo qualche altro qui. Guardate questo video. Imagine a world where every word ever written, every picture ever painted, and every film ever shot could be viewed instantly in your home via an information super highway. It sounds pretty grand, but it all comes down to computers communicating. And in fact, that's already happening on something called the internet. Something called the internet. Così dicevano tutti i territoriali, la chiamavano la internet, l'internet. Anche tanto arrivano delle notizie su qualcosa che succedono su internet, come succedessero su Marte. Ecco, ma questo è al 94, articolo del 95. Questo è famosissimo. Questa persona non è proprio il tumbo pirla che passa. Già lo vedete qui dal setup del 95, due schermi pieno di icone, un saldatore, quindi vuol dire che probabilmente smanettava con l'hardware, un altro schermo qui, quindi non è proprio la persona che di tecnologia non ci capisce niente. Eppure, qui parla di internet, ecco, becco semplicemente questo, non ve lo leggo tutto. Ci hanno promesso shopping da un catalogo istantaneo. Semplicemente punta e clicca per grandi affari. Ordineremo i biglietti aerei sul network, faremo le pronotazioni al ristorante e negozieremo i contratti di compravendita. I negozi diventeranno obsoleti. Ma allora, perché il mio centro commerciale locale fa più business in un pomeriggio che l'intera internet in un mese? Ecco, e poi è tutto così. Cioè, la prende pesantemente in giro. Cioè, lui è fortemente convinto nel 95, adesso se ne è pentito, ha detto, nel 95 che internet won't be nirvana. Abbiamo anche questo, guardate questo, 2000, qui neanche 95, 2000, daily mail. Secondo il daily mail, milioni, milioni di persone stanno abbandonando internet nel 2000. Ok, quindi internet era nata molto, molto sotto traccia. O meglio, era nata con delle promesse che poi stentava a mantenere. Ci ha messo un bel, bel po'. Da quando io l'ho vista per la prima volta, hai voglia, hai iniziato a mantenerle 8-9 anni dopo. Quindi dal 91 al 99 iniziava a mantenerle ed è diventata veramente, le ha mantenute anche per le altre persone quasi 20 anni dopo, forse un po' meno, un 18-17 anni dopo, quindi un 2016, quando sono diventati estremamente popolari gli smartphone. e anche le vecchine hanno iniziato a mandare il buongiornissimo caffè via WhatsApp. Vi mancava, no? Il buongiornissimo caffè via WhatsApp. Ecco, quindi internet è nata lenta, lenta. Nel 99 la finanza se ne è accorta, ha fatto la internet bubble, che è scoppiata. Perché è scoppiata? Perché era ancora topopresto. Bisogna aspettare il 2009, praticamente, perché partissero le compagnie di internet. Infatti, delle magnifiche 7 sono quasi tutte su internet. Adesso dipende da quali 7 consideri, però quelle sono. Quindi abbiamo dovuto aspettare, aspettare un bel bel po'. Ora, questo vuol dire che può darsi benissimo che qualunque altra tecnologia ci metta tanto per partire. Quindi, l'idea che molti hanno è che le criptovalute potrebbero, potrebbero essere una sorta di internet. Quindi, ci stanno mettendo tanto per partire, vengono prese in giro. Giustamente, perché adesso fanno esattamente come internet faceva nel 95. Cioè, quanto business fa il negozietto sotto che accetta bitcoin in bitcoin? Io glielo ho chiesto una volta, mi fa. Lo facciamo soltanto così per attività promozionale, effettivamente. Chiaramente. Poi c'è anche l'aspetto economico che ci ha guadagnato, ma per puro caso, perché il prezzo è salito a razzo. Quindi, al momento, in effetti, non serve a nulla, così come internet non serviva una volta. Questo potrebbe essere un buon motivo proprio prosaico per studiare questa tecnologia. Quindi, se non l'avessi ancora capito, noi siamo qui per la tecnologia, come ci mostra chiaramente questo signore qui, che è sicuramente qui per la tecnologia. Ma iniziamo con che cosa è una criptovaluta. Eccola qui. Una criptovaluta è una valuta digitale. Quindi, con buona pace degli economisti, è una currency, una valuta. Ok? Perché, in effetti, posso usarla per comprare beni e servizi. Se limitiamo la definizione di valuta a questo, quindi definizione di valuta, una cosa che posso usare per scambiare per beni e servizi, ed è accettata da qualcuno in modo fungibile. Ecco, quindi è una valuta digitale, disegnata per lavorare come mezzo di scambio attraverso un network di computer. La cosa importante qui è che non ha bisogno di un'autorità centrale. Ok. Inoltre, andando qui sulla definizione di Bitcoin, le due definizioni iniziali sovrappongono qua, se guardate anche le pagine di Wikipedia sovrappongono, c'è una parola chiave, decentralizzato. Questo perché le criptovalute hanno la caratteristica di essere decentralizzate e senza intermediari. Sì, lo so, lo so, esistono anche criptovalute che sono vergognosamente centralizzate. Però quelle, ok, le menzionerò dopo, ma per piacere al momento, vediamo nei lati tecnologici. Per quelle centralizzate tanto valeva tenersi l'aerodigitale. Vediamo nei lati tecnologici, quindi ci focalizzeremo sulle criptovalute decentralizzate senza intermediari. In particolare spiegheremo la tecnologia di Bitcoin dalla quale poi tutte le altre sono derivate. Quindi, valuta digitale decentralizzata e senza intermediari. Domanda, abbiamo veramente bisogno di una valuta digitale? Mi rifiuto di rispondere, punto. Non sarai mica quello che va al supermercato a pagare con i bronzini e a sottrarmi, giustamente, sette minuti della mia preziosa vita della quale mi rimane gran poco, vero? Ok, quindi sì, abbiamo bisogno di una valuta digitale. Ok. Abbiamo però bisogno di una valuta digitale decentralizzata e senza intermediari? Beh, andiamo a vedere un po' cosa vuol dire centralizzata rispetto a decentralizzata e cosa vuol dire avere intermediari rispetto a non avere intermediari. Passiamo a questa cosa qui simpatica. Immagino che riconoscerete gli loghi. I loghi li riconoscerete perché probabilmente ce li avrete sul telefono. Io questo ce l'ho ma soltanto perché devo mantenere un account altrimenti devo vedere i miei fake. Ok, questi sono il mezzo di comunicazione di veramente una gran massa di persone e sono strumenti centralizzati per due motivi. Il primo, perché quando mandi un messaggio a Whatsapp, tu pensi, pensi, ti piacerebbe mandarlo direttamente all'altra persona. Corri il cavolo, lo mandi al server di Whatsapp, il quale se vuole, se vuole lo manda all'altra persona. Volendo potrebbe fare anche cose più losche, potrebbe addirittura alterarlo o potrebbe mandare messaggi che tu non hai mai mandato. Sarebbe liberissimo di farlo, cioè non c'è nessun controllo dall'altra parte. Sì ti scrive end to end protection, basta un attacco man in the middle, che l'intermediario può fare benissimo, e l'end to end protection, goodbye. So che adesso ci sarà il maniaco che mi scriverà sotto, ma se metti il man in the middle puoi fare tutto quello che vuoi. A meno che non si sia messo d'accordo prima. Quindi, adesso, questi tre sistemi sono i sistemi tra i più utilizzati al mondo. Sono centralizzati tutti quanti, e in più li controlla la stessa persona, peraltro. Eccola lì. Ora, cosa succede se decide che tu non puoi più mandare messaggi? Perché? Magari perché gli lo... Voi direte, ma non lo farà mai. Se gli lo ordina il governo, lo fa. Il governo gli dice, Giovanni Rana non deve più mandare messaggi sui tre sistemi. E lui obbedisce per evitare di beccarsi sanzioni e farsi chiudere tutto. Ok, non ti fa più mandare messaggi. Non solo, ma usa i suoi sistemi di intelligenza artificiale potentissimi per capire dal testo se sei tu che stai scrivendo con l'account di qualcun altro. E i ban account come se non ci fossero domani. Tu sei fuori, basta, hai tagliato. Non hai nessun modo per comunicare. Invece, passiamo alla vecchia, cara e antica e-mail. Ve la ricordate, l'e-mail? L'e-mail, una roba che si usa soltanto in ambiente di lavoro ed è una roba da anni 80. I protocolli e-mail sono dal 79 all'83, se ben ricordo. E da allora l'unica modifica che hanno subito è stato Gmail, che si è permesso di modificare il comportamento del proprio 3. Vero Gmail, maledetto, quando me ne sono accorto, ho tirato bestemmie. Non mi è più funzionato niente nel mio sistema. Vabbè, robe da nerd. L'e-mail, che viene utilizzata solo in ambito business, già che ci siamo, facciamo un'altra parentesi. Se dovete mandarmi una richiesta business, non mandatemela su LinkedIn, come slash chat di LinkedIn o su quella di Instagram. E allora, sdegnatemi di scrivermi un'e-mail. E che capro, mi arrivano richieste business, addirittura da intermediari molto, molto famosi. Non da Pippo Utonariello, che vende qua sotto il pesce. Ecco, su LinkedIn. Va bene. Quindi, questo email, che sembra essere utilizzato nel mio ambito business, ha una proprietà notevole. È decentralizzata. In realtà, non è però senza intermediari. Gli intermediari ci sono, ma puoi farne a meno. Come funziona? Tu mandi un'e-mail. L'e-mail arriva al tuo provider. Rimbalza tra un provider all'altro. E, di solito in breve tempo, arriva al provider dell'altra parte. E poi arriva a destinazione. Se, per caso, il tuo provider decide che tu non mandi più email, chi se ne frega? Ne prende un'altra. Ne prende un'altra e posso mandare un'e-mail uguale. Cioè, uguale. L'unica cosa cambia la strada che ha fatto. Qui, mentre invece con WhatsApp, sì, puoi comunicare anche con Telegram, ma stai comunicando proprio usando un altro sistema. Qui, con lo stesso sistema, semplicemente cambiando il punto d'accesso, essendo decentralizzata, posso usare un'altra strada. A questo punto mi si può dire, eh ma, se tutti non ti danno accesso, posso mettere su un mail server personale. Cioè, conosco persone che hanno uno sgabuzzi, un capanno degli attrezzi in giardino, a Londra, per la precisione, e hanno il loro server con su la connessione con il mail server personale. Si ostinano anche a usarlo. Peccato che vada giù ogni tre giorni, ma vabbè. Quindi posso mettermi su il mio mail server personale e, a patto che un nodo della rete mi accetti l'e-mail, basta, io a quel punto sono libero di scrivere. Ora, se nessun nodo della rete mi accetta l'e-mail, beh, non ho nessuno a cui scrivere a questo punto. In teoria, addirittura, se voglio comunicare con un'altra persona via e-mail, posso chiedere anche all'altra persona di mettere il suo mail server personale e mandagliele direttamente. Oppure, beh, posso offuscare in qualche modo che sono io. Oddio, l'intelligenza artificiale di... anche qui potrebbe beccarmi. Però posso mandarle direttamente da mail server a mail server. Quindi il sistema è decentralizzato, ha comunque degli intermediari per comodità, però volendo puoi farne a meno. però ti è impedito, non ti si può bloccare, o meglio, diventa molto molto più difficile bloccare. Vediamo adesso com'è la situazione al punto di vista bancario. Ora, dal punto di vista del sistema bancario, il sistema bancario è decentralizzato, te ne accorgi tu stesso vedendo l'insegna delle varie banche. Cioè ci sono tante banche, ma santa pazienza perché ho messo la telecamera di ristorata. Ci sono tante banche, quindi se una banca non ti apri il conto, ta-tan, tu ne puoi aprire una presso un'altra. A posto, top. A meno che non si è messo d'accordo nel non apri il conto. Però, appunto, se si mettono d'accordo nel non apri il conto, tu non è che puoi aprire la tua banca. Tu non è che puoi mettere un cartello fuori dalla porta, hanno scritto, apro conti correnti, offro prestiti al 4%, ricevo depositi e pago il 2% di interesse, e fare il tuo bel business. Perché tempo? Dopo due ore arriva a Carabinieri e a Guardia di Finanza e ti fanno chiudere baracche e burattini. Cioè, quindi è decentralizzato, ma è sotto il controllo istituzionale. La gente non è libera di entrarci. Il trasferimento di contante è sempre senza intermediari. Cioè, il contante normalmente lo trasferisce senza intermediari. Dico normalmente perché ci sono anche dei pazzi furiosi. Ricordo, ad esempio, una mia collega stava organizzando il regalo per il compleanno di qualcuno. bisognava dare 5 euro. Io non andavo all'università e l'ho scritto senti, ti faccio un bonifico a 5 euro. Si è messa a ridere. Niente, ho dovuto usare un intermediario e dare la banconota a una persona che la desse un'altra. Roba da altri tempi, veramente. Però normalmente il trasferimento di contanti è senza intermediari. Invece, se ci pensate bene, il trasferimento di denaro elettronico, ma più che altro, qui forse ho sbagliato, scrive il trasferimento a distanza, è sempre con intermediari. Cioè, non hai modo di mandare denaro a qualcun altro senza usare un intermediario. Non c'è modo. L'unico modo, forse, forse, potrebbe essere inserire i soldi con tanti in una busta. In quel caso, utilizzi le poste, ma non tanto come intermediario, quanto come trasportatore del messaggio, sostanzialmente. Però, insomma, adesso non c'è un modo banale, facile, immediato, di mandare denaro a distanza senza utilizzare degli intermediari. Quindi, riassuntone. Per un utilizzo che abbiamo finora, va benissimo avere degli intermediari. Chi se ne frega! Io qua ogni tanto pago in contanti, coi bronzini, appunto, quando voglio di far fare la coda a tutti gli altri dietro. Ogni tanto pago con la carta di credito, dimenticandomi il PIN, quando voglio di fare ancora più coda al supermercato. Pago la carta di credito, faccio i bonifici, di qua, di là, di su, di giù, pago un Paypal, un Satisfay, eccetera, eccetera. Quindi, al momento, il sistema con gli intermediari funziona benissimo. Ma proprio bene, bene, bene. Non nascondiamoci tra il dito dicendo bisogna cambiarlo. No, funziona. Funziona. Potremmo fare, però, delle migliorie che vanno da alcune migliorie futili e che in realtà non si riescono neanche a fare ad altre un po' più interessanti. Ora vorremmo ridurre e alzerare le commissioni. Ora direte, chi è chi? Io mica pago le commissioni per la carta di credito. Beh, tu no. Ma il tuo negoziante, sì. Provo a pagare con American Express. Vorremmo fare delle transazioni illegali. Sarò io libero di fare transazioni illegali senza che nessuno lo sappia? No, non sono libero di fare transazioni illegali. Però sono libero di fare transazioni private. Insomma, se voglio comprarmi la medicina contro quella malattia che è socialmente riprovevole, non so quale, perché ormai non ce ne sono quasi più di due malattie socialmente riprovevoli, o sono libero di comprarmela senza che la carta di credito veda o la banca veda o debba spedire i soldi per baglia postale o ricarica poste pay. Vero che fai le ricariche poste pay ancora nel 2024. Io quando sarò Ministro delle Finanze le vieterò. Anzi, ci metto su una tassa del 50%. Bene. Quindi posso fare transazioni private, quindi direttamente, come si fa con i contanti? Se vivete in un governo dittatoriale, beh, una volta come dissidente venivate imprigionati o peggio, adesso invece vi va forse un filo meglio. Vi semplicemente vi chiudono i conti in banca e vi danno magari gli arresti domiciliari. Così tu non puoi più ricevere i finanziamenti dall'esterno. O meglio, il governo istruisce le banche locali, che sono sotto il controllo governativo, anche quelle, di non farti aprire conti, posto, e non farti aprire neanche i tuoi amici. Ecco che ti ha tagliato fuori l'esterno a finanziare in maniera facile. Potrebbe esserci una forma di censura. Wikileaks l'ha subita nel 2011. Vi racconto brevemente la storia di Wikileaks per quanto riguarda questo aspetto. Wikileaks 2011 aveva divulgato un mucchio di documenti riservati, poi casualmente le principali carte di credito gli avevano chiuso l'accesso al credito, l'accesso alle carte di credito, la possibilità di ricevere donazioni sulle carte di credito, e a un certo punto anche Paypal gli aveva sospeso l'account. Wikileaks si è trovato senza possibilità di ricevere donazioni e a quel punto ha scelto di riceverle in Bitcoin. 2011, quindi molto presto. Stazioni simili in Nigeria nel 2020 e Wikileaks successo nella democraticissima America, quindi non propriamente in Nigeria. Per finire, a me piacerebbe magari avere il controllo dei miei soldi. Io scommetto che se sul tuo conto in banca mancassero 100 euro, non venirmi a raccontare che te ne accorgeresti. E per mancassero non intendo meno 100 sull'estato conto, quelli sì che te ne accorgi, forse. Mancassero intendo dire che tutti i numeri, anche retroattivamente, vengono cambiati togliendo 100. secondo me non te ne accorgi. Io sì perché ho meno di 100 euro quindi andare sotto zero e me ne accorgerei. Colpa tua che non fai donazioni. Quindi abbiamo tutta una serie di motivi per poter volere la possibilità di fare transazioni a distanza pari a pari, quindi dirette, senza intermediario. In maniera quindi decentralizzata, senza che un'autorità centrale possa metterci il ditino e metterci il becco dicendo magari in certi casi tu non la fai. Io vorrei però stognare che sono casi remoti, cioè diciamo che casi ho citato. Forse quello che più potrebbe avvicinarsi a un uso comune è una transazione che tu vuoi fare privata. Non a caso per certe transazioni che tu vuoi tenere privato, vero, usi contanti. Però se volessi fare a distanza come fai? Poi la moglie ti becca che tu hai tutti quei pagamenti all'abbonamento OnlyFan. Vero, vero che ti becca. Vero che ti becca. Ecco, questo forse potrebbe essere il caso che più leggermente si avvicina all'uso quotidiano. Quindi io sono il primo a dire guardate che questi casi d'uso al momento sono veramente un lumicino, proprio un lumicino. Perché per la stragrande maggioranza delle persone, per la stragrande maggioranza della vita va benissimo avere gli intermediari ordinari. Però, come vi ho detto, vi assicuro che nel 1994 per la stragrande maggioranza delle persone andava benissimo non avere internet. E nel 2007 per i tizi che mi avevano venduto l'appartamento e avevano dieci anni meno di me, meno di me, non più, andava benissimo non avere internet. Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male. Ok, quindi, visto che dei casi d'uso ci sono, seppur emoti, e visto che magari in futuro potrebbero esserci dei casi che non ci saremmo mai aspettati. Scommetto che prima di acquistare il primo telefono voi avrete detto centomila volte a me non serve. Se avete la mia età, se avete la mia età quindi avete vissuto in un periodo in cui non c'erano i telefoni portatili, prima di acquistare il primo vi siete detti ma in fondo non mi serve, ma in fondo non mi serve. E prima di passare dal vecchio telefono lo smartphone anche lì avete detto ma in fondo non mi serve, vero eh? Anch'io ci ho pensato un bel po', ci ho dovuto pensare un tizio a convincermi a farmelo vedere. Ammazza, siamo già a mezz'ora questo altro che due ore e mezza sui video e le due a otto. Benissimo. Allora, per poter attivare un sistema di pagamento a distanza dobbiamo controllare tre cose. Allora, tre imbrogli che una persona potrebbe fare. Prima cosa, quando si manda dei soldi a distanza dobbiamo accertarci che chi li manda sia il vero proprietario dei soldi. Seconda cosa, quando mandiamo dei soldi a distanza l'altra persona dovrebbe avere la possibilità di dimostrare che i soldi adesso sono suoi. Cioè che gli sono arrivati non vuol dire tanto che gli sono arrivati, vuol dire che adesso sono suoi. Quindi di essere lui, lei, il proprietario. E per finire, una cosa a cui nessuno pensa, ma quando mandate i soldi a distanza dovete accertarvi che i soldi siano tolti dalla persona di partenza. Perché se ad esempio creiamo un file con scritto questo file vale 10 euro, vabbè, il file me lo duplico ed ecco che lo mando a 100 persone lo stesso identico file. Quindi non si può fare l'equivalente di una banconota. Perché facendo l'equivalente di una banconota, qui io nel mondo digitale ho le fotocopie perfette, indistinguibili dall'originale, la copia. È indistinguibile, non ci sono cavoli. vi hanno raccontato tutte le frotole che volete, la copia è indistinguibile dall'originale, a meno che non ci sono proprio trucchetti tecnici, ma insiti nel supporto tecnico. Invece i file di solito che girano sono file esclusivamente software, quindi scollegati dall'hardware. Quindi, dato che posso copiare facilmente, devo accertarmi che i soldi siano stati tolti dal proprietario, perché altrimenti il proprietario originale, il primo, potrebbe duplicare soldi a manetta con ovviamente un grave danno all'economia. Allora, come controlliamo la proprietà? La proprietà la controlliamo con la criptografia e per questo si chiamano criptovalute. Ora, brevissimo, inciso su come funziona la firma digitale, tutti quelli che sanno come funziona possono allegamente dormire per i prossimi minuti cinque. Ora, la firma digitale non è la vostra firma scannerizzata, quella non è la firma digitale, quella è una porcheria, la vera firma digitale funziona così. Ci sono due chiavi, due chiavi, la pubblica e la privata. Voi avete la privata, tutti gli altri dispongono della pubblica, di solito la pubblica viene messa dentro il programmino che fa il controllo della firma. La privata serve per firmare e, dato che ce l'avete solo voi, solo voi potete firmare. La pubblica serve per verificare la firma. Chi ha la pubblica non riuscirà mai a risalire alla privata, quindi è impossibile. Anche avendo la chiave pubblica e anche avendo il documento firmato è impossibile risalire alla chiave privata. Questo è un super riassunto di come funziona la firma digitale. Quindi ho un documento, faccio tutto un meccanismo informatico che non vi sto a descrivere, che utilizza la mia chiave privata e produce il documento con un piccolo allegato che è la firma. Tutto il resto del mondo grazie alla mia chiave pubblica che di solito viene messa a disposizione dal programma di firma digitale, cioè dicono la chiave pubblica di Paolo Coletti è questa qui e può controllare e poi quando aprite l'interfaccia vedete firmato da Paolo Coletti. potrei anche farvelo vedere ma allungherei il video di altri 20 minuti e in più il gatto sta attentando al mio computer. Ecco, questo velocemente chiave pubblica quindi per controllare le firme se sono vere chiave privata per firmare. Ogni chiave privata c'è una chiave pubblica c'è una corrispondenza uno a uno cioè non è che c'è una chiave pubblica per tutti ognuno ha la sua. Immediato. Ok, prima di dirvi cosa c'entra la criptografia con il mondo delle criptovalute però devo parlarvi di un'altra cosa assieme che è la secondo problema i soldi sono arrivati? Ora, i soldi sono arrivati lo verifichiamo invece con la blockchain e da qui abbiamo già esaurito tutte le buzzwords del video di cripto e blockchain. Ora, cosa vuol dire tutto ciò? Vediamo per capirlo come funziona una transazione in per esempio bitcoin ora ogni utente dispone di un indirizzo bitcoin un indirizzo anzi in realtà più di uno ok questo indirizzo altro non è che la sua chiave pubblica quindi io dispongo di una chiave privata che tengo zitto 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 e un indirizzo che è la mia chiave pubblica lo so lo so un pignolazzi non è esattamente è il doppio hash della chiave pubblica ma mi rifiuto di entrare in questo tecnicismo un indirizzo come una volta a una conferenza divulgativa è arrivato un tipo che si è messo a spiegare le funzioni hash mamma mia ha ammazzato tutta l'audience ok quindi io ho la mia chiave privata zitto zitto e l'altra persona ha la chiave pubblica o meglio tutti hanno la chiave pubblica perché è il mio indirizzo un po' come il tuo IBAN ok ho benissimo adesso facciamo vediamo un po' come si fa proprio in pratica pratica questo programma che stai vedendo qui è Electrum Electrum è un wallet di bitcoin un portafoglio di bitcoin è un coso per permettermi di ricordarmi le chiave pubbliche e le chiave privata tanto per darvi un'idea queste sono tutte le chiavi pubbliche che ho io per tutti i miei indirizzi se volete anzi se volete fare donazioni potete sceglierne uno qualunque va avanti tutti i chiave pubbliche a ognuno corrisponde la chiave privata non è che io adesso mi memorizzo queste robe la chiave privata è lunga il triplo non è che mi memorizzo queste robe che ho buon tempo ok ma non solo poi quando devo applicare la firma digitale mi serve comunque un programma ecco il wallet fa tutto questo per conto mio si memorizza chiave pubbliche e chiave private mi applica la firma digitale se voglio mandare in giro dei soldi non solo ma vedremo dopo ascolta per vedere se mi sono arrivati dei soldi ecco ora su questo wallet bitcoin ho la bellezza di 0,00750265 bitcoin per te che stai guardando questo video nel 2038 e mi reputi multimiliardario valgono 390 euro e saranno venduti in questo istante bitcoin a 52.000 euro ok li ho tutti su questo indirizzo vedete ogni indirizzo c'è il suo bilancio per semplicità li ho messi soltanto sull'indirizzo 1pb8zh numfo45v7 eccetera 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 ecco quindi ogni utente c'è il suo indirizzo altro non è che la chiave pubblica quindi la gente può usare questo indirizzo per verificare la firma digitale allora esiste un registro pubblico condiviso dove sono registrate tutte le transazioni di bitcoin cosa vuol dire registro pubblico condiviso eccovi qui questo è un registro non è pubblico e non è condiviso è un registro del 1911 sono registrate transazioni ora non so di che cosa qui c'è la data qui c'è un sgrifio sempre uguale tra l'altro dico almeno la prima volta scrivimelo bene così si capisce vabbè cosa è che ci sarà scritto secondo voi fornove eh no è diverso è diverso è diverso va bene qui c'è immagino una quantità cosa ci sia non si capisce più niente va bene questo è un registro del 1911 ora il registro questo non è pubblico ma è privato immaginate una cosa del genere ma pubblica e condivisa torneremo dopo su questo condiviso perché è veramente l'aspetto rivoluzionario di bitcoin quindi questo registro è pubblico ora quindi tutti vedono tutte le transazioni roba incredibile pensate se succedesse sta roba nel sistema bancario cioè io vedo tutte le transazioni di tutti gli altri ahah ho visto cosa hai fatto eh va bene se vi interessa sapere com'è quella della versione moderna eccola qui un po' più moderna diamogli un refresh perché chiaramente nuove transazioni arrivano vedete un minuto adesso qui ci sono tutte le transazioni ecco qui tutte le transazioni che sono giro mamma mia cosa che sta roba gigante ok andiamo indietro torniamo al vecchio registro quindi esiste questo registro sono registrate tutte le transazioni di bitcoin se io voglio mandare i miei bitcoin che ho nel mio programmino qui eccole qui a uno di voi eh vi piacerebbe vero invece no li mando a me stesso come faccio a mandare questi bitcoin a me stesso beh potrei mandarle ad esempio da questo indirizzo a un altro indirizzo ma poi voi mi dite vabbè è un giochetto che fai all'interno del programmino allora per farvi vedere che non è un giochetto che faccio all'interno del programmino mi apro un altro wallet con un altro proprio il wallet non è necessariamente questo può essere come vuoi adesso lo stringo me ne apro un altro eccolo qui sopra la mia testa questo robo nero questo è Exodus un altro un altro wallet confesso ho un Ambrosus che non so neanche che cazzo sia dovrò dichiararlo se l'errodo doppio benissimo allora questo è un altro indirizzo vedete faccio receive mi dà l'indirizzo è bc1q vedete non è un indirizzo di questo ha lato un indirizzo nuovo tipo questo è un vecchio tipo allora io mi copio l'indirizzo ora avrei potuto fare questa demo usando due computer differenti ma il Mac si è rifiutato di cooperare con Windows nel travaso delle informazioni mi dicono comprai i prodotti Apple si è rifiutato di cooperare con Windows nel travaso di video quindi devo usare lo stesso computer quindi mi copio l'indirizzo da qui chiudo a questo qui gli dico guarda mandiamo un po' di soldi a questo indirizzo qui faccio proprio incolla eccolo bc1q controllo description prova per video ok quanto all in via tutti ok poi faccio pay sto facendo lenta lenta normalmente la transazione io appoggio il cellulare bip inquadro un qr bip adesso sto facendo lenta lenta per farvi capire cosa sta succedendo faccio pay ok mi chiede una cosa riferita alle commissioni voi ignoratela non preoccupatevi ne parleremo dopo preview ok mi dice guarda questa è la transazione sto mandando da questo indirizzo 1pb8 z h n abc1q 0,0075 0265 bitcoin perché ne arrivano un po' di meno ne parleremo dopo ok benissimo qui c'è la possibilità di fare sign sign vuol dire io appongo la firma digitale cioè qui computer ha scritto sta roba ha scritto che manda i soldi da qui a qui con sign io appongo la mia firma digitale sign mi chiede la password chiaramente per evitare che io lasci il computer da solo per 5 secondi qualcuno mi mandi via i bitcoin adesso il mio passo è lunghissima ecco la transazione adesso è firmata è firmata ma sta solo all'interno di questo programma specifico nel momento in cui io faccio non dimentichiamo che il tutto è decentralizzato nel momento in cui faccio broadcast la transazione viene inoltrata a tutti i nodi che questo programma conosce i quali la inolteranno ad altri nodi i quali la inolteranno ad altri nodi e via così fino a che qualcuno si degnerà di inoltrarla a quest'altro programma pronti broadcast ok la broadcastata ok la mandata oh la mandata veramente l'ho fatto finta eccola ok eccolo qui questo qui se n'ha accorto quindi tempo un secondo un secondo e mezzo questo qui che questi programmi sono in ascolto sui loro indirizzi chiaramente loro non guardano gli indirizzi degli altri sono in ascolto sui loro se n'ha accorto sono diventati perché sono diventati 429 sono aumentati vabbè non indaghiamo probabilmente hanno un prezzo di bitcoin ah sono in dollari questo in dollari questo in euro ok mi speravo io mi piacerebbe ok benissimo sono arrivati come vedete sono il lieto possessore di 0,00749755 bitcoin su questo e questo qui ne ha 0 mette 0 qua sotto vi faccio notare che la transazione qui è segnata come unconfirmed è una cosa su cui torneremo dopo di qua invece andando sotto è segnata come pending questo è un dettaglio che andiamo sotto questa transazione è visibile da tutti guardate io ci clicco qui finisco su questa pagina dove questo qua è un sito su cui torneremo dopo anche dove fa vedere la mia transazione ecco qui questa è una piccola parte da una altra parte vi spiegherò dopo ecco qui dice tutti i cavolacci miei dove è i diagram unconfirmed andiamo a vedere un po' più di dettagli non fa vedere proprio tutti ah eccola da qui a qui si proprio li dice tutti dice i due indirizzi coinvolti allora adesso mi copio l'identificatore della transazione la posso vedere anche su altri siti ad esempio su questo cioè posso vedere la patente su qualunque sito che analizza eccolo qui vedete questo è un altro sito che non c'entra niente è il server che c'è roveretto questo tanto per darvi un'idea provincia di Trento quindi non c'entra niente la transazione di per sé eppure anche lui vede che da questi indirizzi sono partiti dei soldi una parte va qui una parte va qui piccolissima ok e vede i due indirizzi da cui sono partiti andati posto ecco waiting for confirmations quindi la transazione è visibile da tutti quindi vuol dire che per te privacy zero zero in particolare se guardare guardiamo un attimo andiamo qui guardiamo le transazioni degli altri prendiamo vediamone qualcuna Dana Rosa ecco qui 0,36 bitcoin guardate questo questo possedeva 0,36 bitcoin da mandati siccome non si può spezzare devi spezzarlo durante la transazione è come quando paghi con una banconota questo qua potrebbe avere una banconota da 5.000 euro e gli è andato il resto lui probabilmente ha pagato 0,001 a qualcuno e gli è stato dato il resto di 0,36269149 ok vediamone qualcun altro sostanziale 3 bitcoin addirittura questo qui deve aver pagato 0,000000546 ma sai è una miseria di soldi è veramente una miseria di soldi quant'è? adesso voglio vedere per curiosità quanti 0 ci sono 5 0 vabbè andiamo a vedere andiamo a vedere questo indirizzo che lo sta facendo con quei soldi mentre attendiamo vado a vedere quanto valgono 0.0000001 ma vale 5 centesimi di euro vabbè probabilmente sarà stata una transazione obbligatoria immagino qui si è un po' bloccato il sito torniamo a vedere dov'è 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 eccolo qui no questo è quello da 322 ce n'è uno da 4 poi 37 questo ha preso vari indirizzi ovviamente era della stessa persona altrimenti la firma non funzionava perché doveva avere tutte le chiavi private di tutti questi indirizzi le ha unite e le ha sparate verso altri indirizzi di cui uno ha preso ben 20 bitcoin vediamo cosa ha fatto questo con i suoi 20 bitcoin questo è uno che riceve regolarmente blocchi di bitcoin interi vedete 30 42 praticamente chissà chi sono 451 sarà un exchange spero 451 60 sempre numeri interi però o quasi no qui non è intero 129 forse però è lui che li dà ok quindi torniamo un attimo alle questioni tecniche quindi io avevo dei bitcoin su un indirizzo ho preso e ho scritto letteralmente scritto in linguaggio tecnico chiaramente da questo indirizzo mando questo montaggio di bitcoin a quest'altro indirizzo ho apposto la mia firma digitale usando la chiave privata che corrisponde alla chiave pubblica che è l'indirizzo di partenza e l'ho scritto sulla blockchain nel momento in cui l'ho scritto sulla blockchain tutto il mondo vede che c'è questa transazione scritta e tutto il mondo può verificare se la firma digitale che c'è sopra corrisponde alla chiave pubblica di partenza quindi usando la chiave pubblica può verificare se quella firma digitale è corretta se viene che è corretta tutto il mondo riconosce che adesso quei bitcoin sono dell'altra persona potrei mandare di nuovo una transazione anch'io però il mondo saprebbe che sono dell'altra persona e non sono più miei e tutti i nodi mi rifiuterebbero la mia transazione quindi c'è questa sorta di gentleman agreement accordo dove soltanto la persona che risulta proprietario sulla blockchain è quella che può spendere quei soldi ora voi direte cosa mi impedisce di violare questo accordo cioè io appunto prendo dei soldi di un altro e li spendo ah se sì certo puoi farlo ma tutti i nodi te lo rifiutano dovresti ottenere l'accordo di parecchi nodi ma non te lo faranno mai perché di solito chi gestisce un nodo ha anche dei bitcoin e non ci tiene a imbrogliare perché appena si scopre che si imbroglia tutto salta ovviamente quindi nessuno o meglio al massimo forse troverai qualche nodo che potrà essere d'accordo con te ma ti assicuro che tutti gli altri nodi te lo rigetteranno e la tua transazione finirà nel dimenticatorio proprio dopo due settimane viene cacciata viene cacciata fuori subito se è errata come questa altrimenti dopo due settimane viene allegamente cacciata fuori inoltre parliamo un po' di privacy sulla blockchain le transazioni come avete visto sono pubbliche perché la blockchain è un registro pubblico ma pubblico veramente non pubblico come il pubblico registro automobilistico italiano dove spendi 5 euro ogni volta per fare un accesso è pubblico pubblico vero fra e acci questo è veramente pubblico cioè tutti possono guardare ogni sito può guardarselo può chiedere agli altri nodi di avere una copia della blockchain la prende e è a posto poi chiunque può andare a ritroso e scoprire tutte le transazioni fatte dall'origine di quei bitcoin in poi o può andare in avanti quindi puoi riprocurre la storia puoi guardare quanto hanno le altre persone ecco il tutto però riferito agli indirizzi e tu non sai chi c'è dietro a quell'indirizzo a meno che non lo pubblichi ad esempio adesso tutti voi sapete che dietro all'indirizzo il diavolo è che non me lo ricordo manco io 1pb8z num sono io quindi potete fare le donazioni ecco quindi si sa tutto non c'è privacy però c'è quello che si chiama la pseudo anonimità cioè quindi non sei completamente anonimo sei pseudo anonimo c'è un indirizzo e non si sa se ci sei tu dietro a quell'indirizzo perché l'indirizzo di base altro non è che una mera chiave pubblica e passiamo alla terzo problema ve li ricordate i problemi erano tre il terzo problema quello che nessuno si filava era i soldi sono stati tolti dal proprietario quei soldi che adesso io ho dato non è che posso spenderli ancora perché se ci pensate bene se ci pensate bene io potrei fare questo trucchettino qui potrei prepararmi due transazioni entrambe firmate da me entrambe firmate da me quindi correttamente sono io il proprietario della chiave ho solo la chiave privata di quell'indirizzo che prendono tutti i soldi di un indirizzo e li mandano a due indirizzi diversi uno è il rivenditore di 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 Lamborghini e l'altro è ovviamente un indirizzo mio ok cosa faccio io pubblico sulla blockchain vado da un rivenditore e dico ok va bene allora vorrei comprare quella macchina lì lui dice va bene mi dia i bitcoin io pubblico sulla blockchain la transazione in cui i soldi vanno al suo indirizzo lui la vede gli fa bing il suo wallet già ci sono ok a posto mi dà le chiave Lamborghini io accendo Lamborghini corro fuori e mentre corro fuori cercando di non schiantarmi pigio un altro tasso sul cellulare e metto sulla blockchain una seconda transazione e contemporaneamente pubblicare la seconda transazione che manda i soldi a me a questo punto sulla blockchain appaiono queste due transazioni voi direte beh facile è arrivata prima la prima quindi quelle vali dalla seconda no e mi dico no perché internet non è istantaneo avrei potuto ad esempio scaltamente la seconda transazione la facevo pubblicare da un server che stava dall'altra parte del mondo e quindi in quei due secondi di ritardo potrebbe esserci anche molti di più due secondi potrebbe esserci un intoppo su internet anche 10-20 secondi di ritardo in quei secondi io lo frego o meglio più che lo frego abbiamo poi metà mondo blockchain che pensa che la prima transazione sia valida l'altra metà che pensa che la seconda sia valida un gran casotto poi magari ne pubblica anche una terza una quarta compro anche una Rolls Royce una Ferrari tutti sempre con gli stessi soldi ecco voi capite che una roba del genere non si può fare non si può tollerare non tanto perché nel mondo civile non direbbe non si può fare non si può tollerare qui però ci poniamo un altro problema un problema molto più prosaico il problema è i soldi dove sono finiti cioè chi è che ha questi soldi al momento dobbiamo decidere anche subito perché dobbiamo dare la possibilità alle persone di decidere subito ora questo problema sarebbe istantaneamente risolto se ci fosse un'autorità centrale se ci fosse un'autorità centrale che dice a me è arrivata per prima questa transazione quindi i soldi sono di questa transazione qui avremmo risolto il problema ma vi ricordo che tutto il sistema noi lo vogliamo decentralizzato senza intermediari senza autorità centrali altrimenti andrebbero benissimo i sistemi già esistenti non servirebbe tutto questo accrocchio quindi noi non vogliamo un sistema con l'autorità centrale e come facciamo? beh mi spiace il problema è rimasto irrisolto fino al 2008 fino al 2008 non è mai stata data una soluzione funzionante diciamo poi nel 2008 all'improvviso appare ah c'è ancora guardate su una mail list di criptografia ottobre 2008 questo messaggio sto lavorando su un nuovo sistema di denaro elettronico che è completamente peer to peer senza nessuna parte terza da cui riporre la fiducia l'autorità centrale double spending quello che abbiamo fatto adesso è evitato con un sistema di peer to peer partecipanti possono essere anonimi eccetera eccetera ok tale Satoshi Nakamoto propone una soluzione 31 ottobre 2008 ora cosa succede? 31 ottobre 2008 esce questo articolo se lo filano poco devo dire se andate a guardare i messaggi successivi se lo sono filati qualcuno l'ha criticato dice non funziona valla valla io conosco gente che ha milioni di zombie computer che possono buttarti giù tutto non funziona non funziona non funziona va bene comunque lui pubblica il suo articolo e per sua fortuna aveva già o aveva già sviluppato il software o l'ha fatto durante le vacanze di Natale il 3 gennaio 2009 parte la blockchain cioè lui dà il via alla blockchain proprio il software della blockchain questa c'era tanto l'idea e lui aveva proprio il software aveva il software che gestiva la blockchain e software che faceva lui da wallet o quanti questa blockchain per un po' c'è solo lui il 12 gennaio 2009 Hal Finney un famoso criptografo dell'epoca e si mette d'accordo con lui e Satoshi gli manda 10 bitcoin e siccome tutto è pubblico abbiamo quella transazione qui vediamola 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 eccola qui blocco 170 si vede possiamo vedere anche cosa c'è dentro eccolo qua di qua di lato questa qua from tu questo sappiamo essere l'indirizzo di Satoshi sono partiti 50 bitcoin sono arrivati 10 a questo indirizzo che sappiamo essere l'indirizzo di Hal Finney e 12 ha lo stesso indirizzo vedete aveva la banconota da 50 perché il sistema funziona esattamente come il banconote aveva la banconota della 50 ha dovuto smezzarla con la differenza rispetto alle banconote qui c'è anche la banconota da 40 e anche la banconota da qualunque valore però una volta che ce l'hai non puoi spezzartela da solo facendo una transazione con te stesso ok noi cosa possiamo vedere possiamo vedere addirittura Hal Finney se questi 10 bitcoin li ha usati vediamo ecco qui Hal Finney non c'ha una lira c'ha 10 dollari adesso e vediamo che ci sono ecco qua i 10 bitcoin li ha subito presi ha proprio è chiamato Hal Finney c'è scritto addirittura li hanno proprio Fum Satoshi 2 quindi è noto questi indirizzi sono noti per questo gli hanno dato direttamente il nome altrimenti c'è semplicemente l'indirizzo vediamo anche che dal 2013 al 2024 c'è gente che periodicamente regala dei soldi da Hal Finney vedete c'è gente che ogni tanto c'è qualcuno che viene e li prende probabilmente il figlio Hal Finney è deceduto anche Satoshi invece non c'è nessuno se andiamo sull'indirizzo di Satoshi questo è l'indirizzo di Satoshi ha 18 bitcoin dentro ci sono tutte le transazioni che faceva lui stesso vediamo se si riesce ad andare indietro eccole qui queste sono le transazioni che faceva lui stesso fatte da lui 2009 2009 2009 poi niente fino al 2013 e queste invece sono tutte micro donazioni che la gente gli ha fatto quindi tuttora questo indirizzo riceve micro donazioni nessuno tira fuori i soldi perché se qualcuno tirasse fuori i soldi significherebbe che Satoshi è ancora in circolazione ok il mondo bitcoin va avanti così bitcoin viene quotato su qualche micro sito ovviamente senza nessuna autorizzazione per scambiare bitcoin c'è forse qualche micro sito che scambia bitcoin per soldi però ha dei prezzi veramente irrisori dopodiché il quando abbiamo una data ce l'ho io eventualmente 22 maggio 2010 tale Lasvo pubblica pagherò 10.000 bitcoin per due pizze due grandi però mi raccomando 10.000 così ho qualche avanzo per il giorno dopo e poi puoi farla tu oppure ordinarla e poi vuole cipolle peppero che non è pepe ma sono i peperoni salciccia unghi tomato i pomodori peperoni che non sono i peperoni ma salame piccante non vuole per fortuna fish topping ok benissimo la gente gli chiede dovrei abiti perché ovviamente la domanda non è banale dovrei abiti eccetera eccetera ecco qui a un certo punto dov'è che vediamo quando lo comunica ecco voglio informare che ho fatto un ho successfully scambiato ho scambiato con successo 10.000 bitcoin per una pizza e pubblica le foto vediamo se ci sono ancora online no non sono online ma non temete so che voi ci tenete a vedere le foto ecco qui le foto le avevo prese prima che lei le tagliesse da online mano della figlia di Laszlo che adesso ci avrà 20 anni ecco qui le pizze sono buone anzi per essere pizza americana devo dire non male decisamente non male se fosse rosa in Italia ok so che sto dicendo delle bestemmie e sto già perdendo il 90% dell'utenza questa chiaramente è una pietra migliare perché è la prima volta che bitcoin viene utilizzato per comprare qualcosa che non fosse altri soldi quindi una pietra migliare ma chi è che gli ha dato 10.000 bitcoin so che ci tenete a sapere tenetevi pronti tenetevi pronti lui ecco qui lui gli ha dato 10.000 bitcoin non ci credete andiamo a vederlo beh non sappiamo se è lui ovviamente però vediamo la transazione 10.000 bitcoin eccoli qui o meglio gli ha ricevuti 10.000 bitcoin lui è un ragazzo inglese ha telefonato alla domino spizza di Jacksonville in Florida ha fatto finta di avere l'accento americano perché altrimenti avevo pensato sicuramente a uno scam e ha pagato con la carta di credito quindi un po' abbastanza buffo il fatto che la prima vera transazione di bitcoin è stata fatta in realtà con una carta di credito dall'altra parte ha pagato con la carta di credito e gli ha mandato la pizza a casa e voi immaginate magari non glielo neanche detto la sorpresa ha mandato la pizza a casa e l'aslo gli ha mandato 10.000 bitcoin e poi vi spiegherò anche perché l'aslo aveva tutta questa massa mostruosa di bitcoin 10.000 ok ma cosa ne aveva fatte ragazzi inglesi 10.000 bitcoin allora questo è il 22 maggio c'è da qualche parte scritto no andiamo a cliccarci sopra eh sì 22 maggio eccolo qui 2010 eccolo qui vediamo 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 10.000 il 23 maggio quindi il giorno dopo deve ripagarsi della perdita 8.200 finiscono qui che è l'indirizzo abbastanza noto di un exchange 1.800 invece se li tiene lui suppongo andiamo a vedere dove finiscono 31 maggio quindi settimana dopo e questi 1.800 1.000 finiscono su un exchange 800 se li tiene lui andiamo a vedere questi 800 15 giugno due settimane dopo questi 800 vengono messi assieme ad altre 4 banconote da 50 e finiscono tutti in un banconotone unico da 1000 in un exchange fine dei soldi ok ma la storia di bitcoin va avanti il 12 dicembre 2010 Satoshi annuncia che sarebbe sparito è un po' buffo quando qualcuno lo annuncia lo annuncia nessuno ci crede anche perché non sparisce subito però piano piano sparisce veramente smette di rispondere alle email smette di partecipare ai forum piano piano a un certo punto basta non risponde più Satoshi è ufficialmente sparito del tutto basta non si avrà mai più notizia salvo un singolo post qualche anno più tardi che però risulterà essere originato da un account dove era stata caccata la password quindi basta i soldi di Satoshi non sono più stati mossi come avete visto Satoshi è sparito nel giugno 2011 abbiamo l'episodio di cui vi ho raccontato all'inizio Wikileaks accetta donazioni in bitcoin mostrando a tutti quanti che bitcoin aveva un caso d'uso dove la finanza tradizionale non riusciva a arrivare quindi riusciva a girare attorno alla finanza tradizionale e aveva almeno un caso d'uso che non era perché la pizza si potrà comprare anche con la finanza tradizionale dopodiché brutte notizie per il mondo bitcoin due in rapida sequenza la prima è della prima il protagonista è lui questo signore qui di cui vedete scrivendo il nome su ah no non lo vedete scrivendo il nome su google appaiono in una maniera di foto sua e quindi è abbastanza famoso voi direte kick up però è Ross Ulbricht ora Ross Ulbricht stava lavorando sul suo progetto di un e-commerce che funzionava molto bene da una biblioteca lavorava abitualmente dal suo portatile andando in una biblioteca pubblica di San Francisco una mattina va in questa biblioteca pubblica si mette entra non fa caso al fatto che gli avventori della biblioteca non erano i tipici avventori di una biblioteca pubblica la mattina voi chi vi immaginate di trovare la mattina di un giorno feriale in una biblioteca pubblica vabbè pensionati e studenti basta ecco invece gli avventori quasi tutti uomini di mezza età ecco quindi questo vi insegna una cosa se andate in un posto e la gente non è quella che dovrebbe essere state molto attenti scappate ok bene lui si siede inizia a lavorare mette dentro un telepasso del suo sito di e-commerce a un certo punto due dietro di lui cominciano a litigare lui si gira per cazziarli passa un terzo di corsa gli prende il portatile non si tratta di un fruzzo nella biblioteca ovviamente ma tutti gli altri si alzano e lo arrestano erano agenti dell'fbi Ross Ulbricht è stato in servito condannato per aver gestito per anni Silk Road la via della seta il marketplace del dark web una specie di ebay quindi lui non faceva non vendeva niente lui lui semplicemente metteva in contatto venditore con un acquirente una specie di ebay del dark web dove si scambia dove le merci scambiate tipicamente erano droga armi documenti falsi denaro falso e si dice si dice ma non è mai stato condannato anche per questo anche cose ben peggiori il tutto ovviamente come era pagato pagato ovviamente in bitcoin perché bisognava fare appunto come ho detto all'inizio posso io fare una transazione illegale ecco era pagato in bitcoin e questo ha messo alla luce il fatto che bitcoin aveva anche un altro uso oltre a quello di finanziare wikilix che era quello di fare transazioni illegali senza che nessuna autorità centrale potesse bloccarla ok pensate che la criptografia utilizzata in bitcoin è talmente forte che l'fbi che gli ha preso il computer con dentro le password di qualche wallet è riuscita a mettere le mani su parte di bitcoin ma i wallet per le quali lui non aveva ancora messo dentro la password no way l'fbi non è riuscito a mettere le mani su quei bitcoin quei bitcoin ancora sono formalmente di proprietà di Ross Ulbricht se si ricorda tutte le password all'epoca forse dovrei ricordarsi le chiare private se le ripeterò ogni mattina immagino ecco quindi questa è la storia un durissimo colpo soprattutto alla credibilità di bitcoin che veniva esposto anche come strumento di pagamento per attività illegali altro duro colpo qualche mese più tardi febbraio 2014 vi faccio vedere addirittura un filmato non abbiamo l'audio beh direi che è esplicativo il cartello qui dov'è mount gox where is our money mount gox dove sono i nostri soldi e c'è un signore vi faccio notare solo una cosa in questo video il signore sta nevicando perché lui è in maniche corte vabbè è vero che c'è un discreto strato isolante ma sta nevicando vabbè ok infatti l'altro ha anche la sciarpa il cappello lui in maniche corte entra e l'altro signore gli chiede dove sono c'è un fotografo giapponese non è un caso che sia giapponese perché la scena si svolge in Giappone andiamo avanti ve lo racconto io per chi stesse soltanto ascoltando in palestra ecco il signore adesso è in giacca quello con maniche corte è diventato in giacca e cravatta la cravatta è leggermente slacciata quel signore è Marc Carpellet è l'amministratore delegato nonché chief technical officer chief financial officer chief tutto officer e risponde anche al call center di mount gox che è il principale exchange dell'epoca quasi non era l'unico ma diciamo si smaltiva gran parte degli scambi dollaro yen yen bitcoin bitcoin yen ma anche col dollaro e con l'euro magari non direttamente perché i bonifici dovremmi farglieli in yen visto che aveva essere legali in Giappone probabilmente per motivi di questioni fiscali qui sta dicendo delle cose che voi non potete sentire io ve le leggo c'erano parti deboli nel sistema causando una perdita di bitcoin che come risultato ha danneggiato tutti vediamo se dice qualcos'altro e sinceramente mi scuso per questo vabbè grazie si inchina la maniera giapponese basta non dice nient'altro vabbè ok caro Mark Mark ha fatto default è andato in fallimento il suo exchange perché gli hanno creato l'exchange d'altronde se fai tutto tu è difficile dedicare anche abbastanza tempo alla sicurezza gli hanno creato l'exchange ha perso 650 mila bitcoin 650 mila la gente glieli chiedeva indietro e quindi ha fatto bancarotta bancarotta del principale exchange la gente si accorta che lasciare i bitcoin su un exchange significa si torna al punto di partenza cioè i soldi non sono più tuoi perché siano veramente tuoi li devi mettere su un wallet personale come avete visto fare prima a me quindi due durissimi colpi uno legale e uno finanziario al mondo bitcoin bitcoin è rimasto molto sotto traccia per tanti anni 2015 2016 all'improvviso nel 2017 ha cominciato a crescere crescere non intendo tecnologicamente ma di prezzo di prezzo di prezzo da mille duemila 3.000 dollari per bitcoin arrivato a fine 2007 che ha sfiorato i 20.000 dollari per bitcoin questo punto ha attirato l'attenzione di mass media perché molta gente voleva entrarci sapete quando una roba cresce tutti i pirola vengono a cercare ad entrarci ecco molta gente voleva entrarci e quindi ha attirato tantissima l'attenzione di mass media e secondo me una gran massa di persone sono arrivati a conoscenza di bitcoin in questo periodo dopodiché come era prevedibile è crollato non a livelli precedenti quindi non è arrivato a mille però è crollato è crollato fino a 3.000 dollari quindi è crollato di parecchio da 20.000 a 3.000 è un bel tonfo ma non è tornato a mille ed è rimasto a galleggiare 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 fino a quando ha fatto di nuovo un'altra bolla una bolla che l'ha portato se ben ricordo a 60.000 oltre 60.000 dollari per bitcoin e a seguito di quella bolla è fallita un'altra criptovaluta vedremo dopo perché esistono altre criptovalute e cosa sono è fallita un'altra criptovaluta chiamata luna terra luna dire la verità c'era un sistema binario che tra l'altro funzionava bene è fallita finanziariamente ha mandato gambe all'aria è andata gambe all'aria la criptovaluta che il suo valore è andato a zero ma soprattutto sono andate gambe all'aria 8 e dico 8 exchange tra cui uno grosso avrete sentito parlare penso sicuramente di FTX FTX l'ultimo exchange famoso per essere saltato sono saltati gambe all'aria auto exchange tutti quelli che avevano i soldi su goodbye so che adesso tu che hai i soldi su FTX stai dicendo ma no dai hanno detto che me li ridano sì per chi stesse solo ascoltando sto allungandomi il naso tipo Pinocchio ecco no vabbè magari un po' di soldi ti arrivano dai anch'io avevo dei soldi su uno di questi 8 diciamo confido che mi arrivi un terzo di quei soldi perché ho guardato i dati contabili dovrebbero avere più di un terzo quindi pagando le spese forse un terzo ci arriviamo ok e questa diciamo è la situazione 2020 questa è una situazione 2022 e siamo 2024 diciamo nulla di rilevante successo bitcoin sta salendo sale 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 avete visto prima 52 mila ha fatto una pompatina improvvisa su l'unica notizia rilevante che è successa adesso nella storia di bitcoin è che è entrato ufficialmente nel mondo finanziario cioè in america esiste un etf su bitcoin è importante quella f exchange traded fund f vuol dire che deve possedere i bitcoin perché finora c'erano degli etc etp su bitcoin ma non un etf quindi esiste uno strumento finanziario che possiede dei bitcoin e che è accessibile al pubblico ne esiste più di una della verità e mentre salutiamo il passaggio della prima ora e dieci minuti e lo dico a te che stai correndo in palestra sul rullo da un'ora e dieci minuti siamo un'ora e dieci puoi quasi smettere e torniamo al problema originale perché io vi ho detto Satoshi scrive questo bell'articolo che risolve tutti i problemi ma non vi ho detto cosa fa chiaramente non mi addentrerò troppo nei dettagli tecnici anche perché bitcoin ha questa caratteristica tu più ti addentri nei dettagli tecnici più scopri altri problemi che vanno risolti con altre strutture tecniche quindi è una roba micidiale che sembra non avere quasi mai forse solo gli sviluppatori di bitcoin core conoscono la roba fino al fondo al fondo allora l'idea di Satoshi è questa le transazioni quando tu le metti nella blockchain sono messe come unconfirmed non confermate per questo nel mio wallet voi avrete visto pending e tuttora mannaggia a lui è unconfirmed vedete unconfirmed anche dall'altra parte dovrebbe risultare pending vedete tuttora è pending la mia transazione quindi tuttora è pending questo vuol dire che la transazione c'è i soldi sono dell'altra persona però piano perché il proprietario originale potrebbe giocarti dei brutti tiri quindi sta attento vuol dire è praticamente il momento in cui tu dai i soldi di carta a un altro e entrambi avete il pollicione sul soldo quindi sono tuoi cioè tu li stai toccando ma sta attento perché quell'altro potrebbe tirare e correre via ok si tratta comunque di furto se fa una roba del genere di furto tecnicamente è furto perché gli hai già preso in possesso ok a questo posto Satoshi dice bene tutti gli utenti attenzione perché parte con una roba che non c'entra apparentemente niente tutti gli utenti sono invitati a risolvere un enigma un rompicapo estremamente difficile che può essere risolto soltanto per tentativi cioè non c'è nessun modo analitico di risolverlo voi direte ma che k resto rompicapo che può essere risolto solo in modo non analitico per tentativi beh non voglio stare qui a spaccarvi gli zebedei con le funzioni hash vi farò un altro esempio giusto per rendervi l'idea calcolate la radice quadrata di questo numero per chi stesse correndo sul tapis roulan e sta solo ascoltando il numero è 7843070540877985475847111340036 questo è un problema per cui la soluzione è difficile da trovare può essere trovata però andando per tentativi anzi addirittura qui non serve neanche fare tentativi a caso puoi anche andare con un criterio alla Weierstrass cioè stringendo sempre di più l'intervallo ma soprattutto la caratteristica che quando trovi la soluzione è immediato verificarla perché con una moltiplicazione tu la verifichi ecco questo è un esempio se siete curiosi la soluzione è aspettate l'avevo scritto qua sotto eccola qui guardate me la sono messa qui perché so che mi viene chiesta so che morite dalla voglia di sapere che la soluzione è 800548257195006 potete prendere carta e penna e provare a fare la moltiplicazione nel giro di mezz'oretta dovreste riuscire a verificare che è giusta o meglio che avete sbagliato a fare i conti probabilmente ok quindi si tratta di c'è questo enigma tutti sono invitati a partecipare quindi tutti provano 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 il primo che riesce a risolvere l'enigma dà la soluzione la comunica agli altri gli altri possono verificare in un istante che è giusta e questa persona riceve 50 bitcoin nuovi di zecca come premio quindi diciamo i nuovi bitcoin entrano in scena come premio per chi risolve questo enigma e adesso avete capito perché il ragazzo inglese aveva 800 bitcoin e li ha messi assieme a 4 banconote da 50 anche Satoshi aveva la banconota da 50 perché? perché partecipavano a questo diciamo gioco e magari ogni tanto avevano riuscita a rindovinare per primi con il loro computer chiaramente non a manina non carta e penna chissà se c'è mai qualcuno che ha risolto il problema carta e penna e avevano tirato fuori questi 50 e quindi avevano ottenuto 50 bitcoin forse qualcuno avrà notato anche adesso torno alle transazioni vecchie vediamo 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 questo prende una vecchia transazione ecco il blocco 170 se guardate il blocco 170 sopra la transazione da Satoshi dal Finney c'è un'altra che c'è scritto blocco reward 50 cioè non c'è niente di partenza e arrivano 50 dal nulla ecco questa è la creazione dei bitcoin non solo ma chi risolve per primo questo enigma adesso torniamo al problema precedente ha il diritto di decidere quali sono le transazioni buone quindi da confermare mettere una specie di timbro e quelle che aspetteranno non può decidere quali sono quelle da scartare perché però le altre non vengono rimangono non confermate quindi se per caso ci fossero due transazioni in contraposizione quindi che gli stessi soldi vengono mandati in due direzioni diverse chi ha vinto questi 50 bitcoin può decidere che una delle due prende il timbro confermata non può darla a tutte e due perché altrimenti gli altri si accorgono che il blocco non è valido che la scelta di questa persona non è valida gli tolgono anche 50 bitcoin quindi è fortemente incentivata a non fare cassate ok quindi può decidere può decidere anche che nessuna delle due venga confermata e lasciare la decisione al prossimo però prende delle transazioni a sua totale discrezione quindi per i prossimi dieci minuti perché c'è un enigma ogni dieci minuti in media questa persona è il re diciamo decide lui chi è lo re ecco lo re è questa persona è una persona praticamente viene quindi questa autorità centrale in realtà sotto sotto esiste ma viene estratta quasi a caso tra tutti quelli che partecipano e spesso capita che è diversa essendo sempre diversa il sistema è decentralizzato perché se Tizio mi odia e non mi fa passare le mie transazioni prima o poi non toccherà più a lui toccherà a Caio oppure a me stesso addirittura e allora le mie transazioni me le faccio passare quindi il sistema funziona così quindi riceve 50 bitcoin e decide quali transazioni vanno dentro questa massa di transazioni che vengono confermate si chiama blocco blocco non solo c'è anche un'altra questione un po' tecnica lui decide che questo blocco si aggancia al blocco precedente voi direte ovvio ovvio fino a un certo punto però decide che il blocco si aggancia al blocco precedente quindi dice il blocco precedente era il 170 questo è il blocco 171 agganciato a quel 170 lì che contiene queste transazioni io ho dato la soluzione questa è la dimostrazione pubblica tutto la gente dice va bene tua passiamo al prossimo e passano al prossimo gioco ecco il sistema quindi funziona così una sorta di mega enigma la gente risolve e chi risolve 50 bitcoin può decidere quale transazione crossformare attenzione che potrebbe esserci ancora un piccolo problema molto molto più raro ma piccolo potrebbe succedere che in due parti del mondo due persone risolvano l'enigma nello stesso momento più o meno nel giro di 1-2 secondi di differenza dato che internet non è istantanea può darsi che mezzo mondo abbia la soluzione di uno e mezzo mondo la soluzione dell'altro ugualmente valide e come si fa in questo caso in questo caso vi dico che succede su bitcoin una volta all'anno una volta all'anno succede questo chiamato fork la biforcazione in questo caso sarà la persona che viene dopo ancora a decidere la persona che viene dopo ancora deciderà dove agganciarsi se agganciarsi a blocco diciamo 1 o a blocco 2 quindi a blocco a quale dei due blocchi agganciarsi per lui sono uguali non è che sono 1 e 2 deciderà lui in maniera completamente arbitraria a quale due agganciarsi e l'altro morirà quindi la cosa è demandata alla persona dopo se per caso io sono l'autore di uno dei due blocchi e voglio assolutamente che il mio blocco venga rimanga vivo perché sono dentro i miei 50 bitcoin mannaggia come posso fare beh potrei mettere alla frusta il mio computer per fare più tentativi possibile vai 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 dai che dove lo faccio ecco quindi è una sorta di strana democrazia dove chi ha più potenza di calcolo decide più robe però non è che decide tutto perché ad esempio comunque chi fa le conferme non può spendere i miei soldi serve sempre la mia chiave privata per spendere i soldi l'unica cosa che può fare chi fa le conferme è decidere essere una cosa confermata o non confermata e in questo momento devo dire che maledetti non mi hanno ancora confermata la mia transazione e ancora come vedete unconfirmed ok quindi al momento potrei mettere a lavorare il mio computer e sperare di essere io ad aggiudicarmi il blocco in quel caso con 50 bitcoin vado in fire subito allora questa attività che abbiamo detto si chiama mining una cosa molto importante è che le transazioni così fatte sono molto molto difficili da cancellare cosa si intende con cancellare una volta che la transazione è confermata finisce dentro un blocco dopo arriveranno altri blocchi a seguire dietro perché il prossimo si attacca all'unico a meno che non ci sia una biforcazione si attacca all'unico blocco che vede prima di lui quindi arriveranno altri blocchi dietro supponiamo che ci sia una transazione che ha due blocchi dietro di sé a questo punto io dico mannaggia mi sono sbagliato voglio cancellare con la transazione in teoria potrei ancora farlo per farlo però devo prendere i soldi che ho usato per quella transazione spenderli verso un altro mio indirizzo ad esempio ok attenzione però perché se io pubblico questa nuova transazione tutti mi ridono in faccia mi dicono tre blocchi fa quei soldi li hai già spesi non è che puoi rispenderli adesso devo pubblicare questa transazione e contemporaneamente essere io a risolvere tre blocchi di fila in modo da inanellare tre blocchi alternativi alternativi agli ultimi tre con la mia transazione nuova dentro capite bene che l'impresa è praticamente impossibile perché mentre il resto del mondo mi sta remando conto perché sta cercando nuove soluzioni perché sono 50 bitcoin e sono soldi e ci sono io col mio computerino o anche con i miei computeroni cerco disperatamente di minarne tre addirittura sperando che gli altri non ne scoprino ne tre sperando che gli altri non ne scoprano neanche uno impresa praticamente impossibile per questo si dice che una volta che una cosa è scritta sulla blockchain è immutabile in realtà tecnicamente non è vero perché può essere mutata ma per mutarla io ho bisogno di scoprire blocchi risolvere indovinello più velocemente di tutto tutto il resto del mondo quindi vuol dire che devo disporre di più della metà della potenza di calcolo del mondo del mondo che sta lavorando su bitcoin cosa che finora nessuno è riuscito a fare quindi anche perché se io dispongo di più della metà della potenza di calcolo del mondo bitcoin ho un mucchio di blocchetti da 50 bitcoin e ben mi guardo al fare porcheria del genere faccio il mio lavoro e mi guadagno i miei blocchetti da 50 bitcoin ecco quindi diciamo che una volta che una transazione sta sulla blockchain e ha anche un solo blocco dietro di lei quindi ha una conferma e poi è arrivato un altro blocco dietro di lei si dice che ha due conferme quindi è impossibile cambiarla quindi Satoshi ne voleva sei di conferme che è decisamente esagerato già con due conferme è praticamente impossibile cambiarla a questo punto urge un mega riassuntone di cos'è la blockchain allora la blockchain è un registro pubblico condiviso che contiene tutte le transazioni in bitcoin prima non abbiamo sottolineato l'aspetto condiviso a sufficienza pubblico l'avete capito condiviso cosa vuol dire condiviso condiviso vuol dire che ognuno ha la sua copia quindi non esiste la copia ufficiale perché non esiste nessuna autorità centrale non esiste la copia ufficiale è condiviso ognuno ha la sua copia le copie saranno in leggera discrepanza perché si dovranno aggiornare una con l'altra però diciamo la parte confermata della blockchain dovrebbe essere uguale per tutti se qualcuno ce l'ha diversa quella persona viene esclusa dal network è un network che non ama la diversità quindi diciamo la parte confermata della blockchain quella deve essere uguale per tutti poi c'è la parte non confermata lì è un po' un marasma finché appunto per quello servono le persone che mettono i bollini di conferma quindi un registro la blockchain è un registro pubblico e condiviso è molto molto importante questo perché registro pubblico ce ne sono tanti ma condiviso è veramente una roba strana contiene tutte le transazioni bitcoin poi le transazioni sono sempre firmate dal mittente per garantire che sia proprio lui che l'ha firmata originariamente vanno dentro come non confermate viene fatta questa sorta di indovinello in cui chi lo risolve ha diritto di confermare un blocco di transazioni e passano a confermate ogni 10 minuti in media gli arriva un altro blocco dietro e a meno che non ci sia il raro evento di una biforcazione gli arriva un altro blocco dietro e quindi la doppia spesa a quel punto fare il giochetto di spendere due volte è impossibile perché se io tento di rispendere dei soldi che ho già speso addio quindi se il venditore di Lamborghini di prima avrebbe fatto bene a darmi le Lamborghini soltanto quando è arrivata direi che per Lamborghini mi conferme ne servono almeno tre diciamo due non sono sufficienti quando almeno tre conferme allora può darmi le chiavi della Lamborghini così non gli faccio i trucchetti lorschi domanda però chi sono questi soggetti che partecipano a questo gioco abbiamo visto che Satoshi ci partecipava e anche i ragazzi inglesi con la barba rossa ci partecipava all'inizio in effetti erano gente che metteva su in piedi una strumentazione artigianale per fare calcoli in fretta perché chiaramente più fai i calcoli in fretta più riesci a risolverlo con facilità e quindi più spesso sei tu che l'hai risolto infatti l'asdlo quello della pizza è stato uno dei primi che ha iniziato a utilizzare le schede video per fare questi calcoli ed è questo il motivo perché lui aveva 10.000 bitcoin perché aveva vinto parecchie volte la lotteria del mining ecco qui un esempio di una strumentazione prettamente artigianale vedete qui ci sono pezzi di schede video penso qui c'è un alimentatore la sedia è una sedia Ikea la riconosco l'avevo anch'io anche se era vero della mia qui c'è un tubo che probabilmente è per il cambio d'aria perché sta roba produce un caldo non da poco ne abbiamo anche un'altra eccola qui questa qui addirittura con i ventilatori e qui questo è o è un boiler per l'acqua calda o il raffreddamento ad acqua di tutta la baracca prima non penso deve essere il boiler per l'acqua calda c'è una vespa che mi sta insediando ecco questo all'inizio quando bitcoin valeva 2 spicci e 50 bitcoin erano 10 euro 10 euro no già qui 50 bitcoin erano che so 200 euro poi quando bitcoin ha iniziato ad avere un certo valore che so 50 bitcoin uguale 5000 euro la cosa ha escalato un attimino in su ed ecco che ecco qui il signore io non so onestamente se questa sia veramente una cosiddetta mining farm quindi una azienda specializzata nel mining di bitcoin oppure sia semplicemente una server farm potrebbe essere entrambe dal tipo di computer soprattutto quelli depositati qui mi sembra più una mining farm ok ognuno di questi aggeggi che vedete è collegato alla corrente elettrica tra l'altro è collegato con un ordine incredibile vorrei verlo io in casa sto vi faccio vedere qua sotto c'è più somiglia più a questo casa mia che non a questo ok ognuno di questi computer che è attaccato qui consuma 1 kilowatt considerate che casa vostra regge 3 kilowatt potete immaginare quanto sia il consumo elettrico di questa roba ma passiamo adesso a togliere un vostro dubbio che avete sin da quando avete visto la mia transazione perché io ho pagato delle commissioni vediamola qui ecco qui con sfondo il signore allarghiamo così ecco qui se guardiamo la mia transazione qui si vede anche andandola a guardare sui vari siti ma la possiamo guardare da qui comodamente e sono partiti 0,0075 0265 ma sono arrivati solo saluto quelli che stanno segando del metallo ma perché sotto casa mia c'è sempre qualcuno che sega metallo e poi metallo si sega vabbè e sono arrivati solo 0,00749 755 poi avete notato che gli youtuber si lamentano sempre dei rumori ma li sentono solo loro perché nei microfoni di solito spero non entrino vediamo sì effettivamente il microfono non entra il rumore vabbè mi lamento cioè quindi sono persi dei soldi per strada infatti c'è scritto qui fee 0,00000051 bitcoin corrispondente a 26 centesimi di euro rispettivamente 2,7 satoshi a byte ora chi è che si è pappato questi 26 centesimi di euro banche non ce ne sono la transazione è diretta da me all'altro chi è che si li è pappati eh se gli è pappati il miner il miner quindi quello che ha risolto il blocco si pappa i 50 bitcoin che nel frattempo sono stati ridotti Satoshi ha previsto che ogni 4 anni quei 50 bitcoin venissero dimezzati e al momento sono 3,125 bitcoin subito dimezzamento a 25 12 e mezzo 6 e 25 3,125 bitcoin quindi al momento il miner si pappa 3,125 bitcoin più tutte le commissioni pagate da chi manda le transazioni e perché io dovrei pagare una commissione eh io devo pagare una commissione perché purtroppo ai bei tempi come avrete sicuramente notato ai tempi di Satoshi o della pizza uno mandava 10.000 bitcoin ne arrivavano 10.000 commissione 0 non è che mandava 10.000 arrivavano 9.999 999 no la commissione c'è perché una volta la blockchain era mezza vuota e infatti vedevate la transazione che attribuiva i 50 bitcoin e sotto quella che spostava i 10.000 e basta poi sotto adesso se andate a guardare un blocco andiamo a guardarne uno qui andiamo a guardare vado sulla home eccolo qui vediamo l'ultimo blocco questo è l'ultimo blocco 5 minuti fa tra l'altro dove non hanno vedete questa è la transazione dei 3,125 e poi ce ne sono una marea sotto del continuo ma proprio tante quindi la blockchain è abbastanza zeppa e purtroppo ogni blocco è limitato a un megabyte perché altrimenti la blockchain crescerebbe troppo quindi può occupare soltanto un megabyte un megabyte vuol dire dalle 4 alle 7.000 transazioni e gli altri aspettano e come le sceglie il miner queste transazioni il miner queste transazioni vediamo se arrivo ecco qui vi faccio vedere dove il miner prende decide quali transazioni inserire vedete qui questi sono questi sono i blocchi vecchi e questo è il miner che lo ha che ha risolto il dovinello Mara Pool Spider Pool Found USA sono di solito delle aziende o delle associazioni di utenti F2 Pool via BTC eccetera eccetera Mara Pool l'ultimo ok queste sono le transazioni in sospeso voi direte quelle grosse sono quelle quelle grosse no quelle grosse sono quelle che pagano tante commissioni e quelle piccole sono quelle che pagano poche commissioni ad esempio questa qui bella grossa vedete vuol pagare 105 dollari di commissione probabilmente sarà sicuramente presa tra l'altro ogni tanto è la cosa buca che si trovano delle transazioni che sono disposte a pagare di commissioni più della transazione stessa vediamo sono tutte sui 100 queste 69 69 ma per un bitcoin invece io sono in mezzo a questi porazzi qui ecco vedete vediamo un po' ecco 25 questo è più povero di me io pago 26 dollari lui 25 l'ho trovata una più povera di me io forse l'ho trovata che voi starò da queste parti 94 vediamo questa intermedia i 10 dollari ecco quindi a seconda il miner cosa fa? prima mette dentro quelle che glielo li pagano tanto poi che glielo pagano un po' di meno tu la metti dentro le sue poi quelli che lo pagano tanto poi quelli un po' di meno un po' di meno un po' di meno poi se finisce il megabyte basta ciao ciao a tutte le altre e tu aspetti e infatti io cosa sto facendo lo sto aspettando che due scatolone va bene sto ancora aspettando eh quanto ho messo io? la transazione in realtà io vi ho sempre fatto il conto in euro in dollari euro ma si misura in satoshi per byte io ho messo 2,7 satoshi per byte che è un po' una commissione da pezzente vedete qua c'è scritto qua dove c'è fee rate 4 satoshi per byte ma proprio io ho messo una commissione da pezzente vedo ho messo 2 satoshi per byte ok niente qui dice guarda se tu metti 4 satoshi per byte te la fanno con no priority con 2 potete immaginare qui abbiamo un altro grafico un po' più esplicativo chiamolo a 6 mesi queste sono tutte le situazioni e le transazioni non confermate giorno per giorno vedete quindi adesso siamo in questa situazione che è abbastanza favorevole questi sono i pezzenti i rossi i viola i quasi pezzenti però c'erano periodi tipo qui a giugno dove vedete c'erano molte transazioni verdi verdi gialle quindi voleva dire che pagavano i gialli pagano 20 satoshi per byte quindi 10 volte quello che pago io e qui addirittura vedete qua c'erano addirittura rosse i rossi pagano 120 satoshi per byte addirittura c'erano delle transazioni azzurre 250 satoshi per byte quindi 100 volte quello che pago io ecco poi ovviamente chiaramente ci sono sempre transazioni assurde che vogliono pagare 100 euro 100 dollari solo per essere fatti subito ecco quindi vedete a seconda del periodo si può passare con una piccola commissione oppure ci vogliono delle grosse grosse commissioni e questo è un problemone in realtà perché a seconda del periodo tu fai le transazioni di bitcoin pagando qualche centesimo o fai le transazioni di bitcoin pagando qualche dollaro se non qualche decina di dollari e soprattutto è difficile stabilirlo prima ad esempio io qui ho cercato di sparare una commissione però il mercato si è un attimo impennato come transazioni e io mi sono trovato a qui che aspetto abbiamo qui un esempio di cosa vuol dire l'impatto delle commissioni vedete che è una coracola questo è il primo acquisto che ho fatto io in bitcoin una coracola abbiamo lo screenshot dell'acquisto vediamo di ridurre un po' ecco qui bar mani al cielo di rovereto pagata 2 euro all'epoca un bitcoin valeva 6234 euro e ho pagato vedete questo 0,32 mille bitcoin e commissione 0,45 quindi 2 euro 3 euro questo ho pagato 3 euro di commissione per 2 euro di coracola perché perché ho pompato un attimo le commissioni perché temevo che mi facessi aspettare la conferma dico magari tra qui 3 ore ecco molto meglio guardate anche solo 3 mesi 4 mesi dopo 22 marzo 2018 e questo è un pasto a Cibus a Bolzano pagato 3 milli bitcoin commissione mi ricordo ho fatto il calcolo era 8 centesimi 0,0226 8 centesimi quindi sono passato da 3 euro di commissione a 8 centesimi nel giro di qualche mese quindi il sistema delle commissioni è una cosa abbastanza incidente perché la blockchain ha lo spazio limitato e quindi bisogna c'è un po' di competizione per le commissioni è un po' come se in banca immaginate in banca voi andate in banca c'è fila purtroppo un impiegato è malato quindi c'è un impiegato solo quindi l'offerta di servizio è limitata e l'impiegato anziché farvi nell'ordine di fila dicesse bene chi è che vuole pagare 20 euro di commissione per passare davanti e tu dai io passi avanti ecco sarebbe un sistema perfetto secondo me economicamente perfetto poi la gente si arrabbierebbe ma chi se ne frega economicamente sarebbe infatti il sistema economicamente è perfetto chiaramente preferiremmo avere le commissioni sempre basse ora devo dire che è attivo un sistema che si chiama lightning network di cui non vi spiegherò la tecnologia perché altrimenti servono altre no c'è un mio video che spiega anzi linkiamo il video il video su lightning network ve lo linko qui e poi a seguire vi linko anche il video in cui ci sono io che vado in giro per roveretto facendo acquisti proprio di oggetti pagando con lightning network ve lo linko anche quello qui peraltro mi sembra che una o due volte qualcuno sia sbagliato anziché fammi pagare su questo nuovo sistema mi ha fatto pagare sul vecchio e giù commissioni che ci ho lasciato va bene ecco quindi c'è questo sistema nuovo che è uno strato ulteriore di tecnologia sopra la rete bitcoin esattamente come su internet su internet nessuno scrive più i protocolli tcpip a manina e ci sono degli strati ulteriori il web ad esempio in cui tu comodamente clicchi 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 e fai ecco questa cosa è questa cosa uno strato ulteriore di tecnologia sopra una tecnologia già esistente facciamo vedere un pagamento su lightning network dal vivo per verificare se è semplice o no aperto io a tutti siamo pronti per pagare il conto ecco qui wallet of satoshi contestatissimo inquadro il QR ecco qui sono 20.107 satoshi mando ecco qui io ho mandato vediamo qui la grandizione che dicevano ricevuti a posto ecco qui la transazione 12 euro spesi 12 satoshi di commissione che ammontano a circa 8 lire ve le ricordate le lire? ecco c'è da dire un'ultima cosa e vi ricordo che il miner oltre alle commissioni prende anche il cosiddetto block reward che adesso ho detto è 3,125 grazie al fatto che si dimezzano i 4 anni se voi foste dei matematici o avete passato l'esame di analisi 1 sapete calcolare la somma se calcolate la somma viene esattamente 21 milioni anzi non esattamente quasi 21 milioni di bitcoin quindi esisteranno solo 21 milioni di bitcoin in tutto perché col fatto che si dimezza sempre la produzione di bitcoin a un certo punto arriverà una cifra tale che non si può più dismezzare perché oltre le mi sembra 3, 6 8 cifre decimali non va o forse oltre le 11 non mi ricordo e a un certo punto non si può sono i micro milli forse le 8 cifre decimali non va più e quindi a un certo punto nel 2000 quando è 2140 verranno raggiunti 21 milioni di bitcoin e non ne verranno minati più e da allora i miner vivranno solo delle commissioni che già adesso vivono quasi più delle commissioni ogni tanto cosa è successo negli ultimi 5 6 7 anni è che molti hanno detto l'ha fatto satoshi e io ho scritto pirla per non farlo anch'io e si sono fatti la loro criptovaluta siccome il codice di bitcoin era pubblico addirittura spesso hanno preso il codice di bitcoin e non gli hanno fatto neanche modifiche non gli hanno fatto modifiche minime ogni tanto l'hanno stravolto completamente hanno fatto una criptovaluta completamente diversa quindi con usi completamente diversi e al momento ci troviamo ben oltre 10.000 che dico mila nuove criptovalute nuove criptovalute che non sono bitcoin delle cosette altcoin o meglio così vengono chiamate in gergole altcoin criptovalute alternative e i veri bitcoiner le chiamano in un altro modo che non ripeterò per evitare di veder demonetizzato il video ecco qui questa è la situazione per capitalizzazione bitcoin è un po' come gli Stati Uniti si fa più del 50% quasi 60% quindi il 60% del valore circolante è in bitcoin poi abbiamo Ethereum che si fa la sua grossa fettona poi Tether BNB Binance Coin Solana USD Coin Ripple esiste ancora Dogecoin Toncoin Tron che è l'unica che non so neanche niente Cardano Avalan Shiba Inu poteva mancare Bitcoin Cash e bla 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 e c'è una fettona che sono gli altri 9.990 9.985 anzi sono più di 10.000 semplicemente semplicemente il sito principale che è CoinMarketCap e ne riporta solo le prime 10.000 dalle altre e le ha abbandonate ecco che differenza c'è tra queste criptovalute alternative e bitcoin ora dipende molto dalla criptovaluta alcune sono proprio la copia di bitcoin però diciamo che questa non hanno più litecoin ad esempio è abbastanza una copia di bitcoin quindi un fork tecnicamente anche bitcoin cash però la maggior parte cerca di metterci delle differenze o del valore aggiunto o rivoluziona completamente la tecnologia vediamo qui un breve riassunto di quelli più famosi e famigerati ci sono le criptovalute ethereum e tutte le ethereum compatibili avalanche mi sembra l'abbiamo citato prima e o solana che sono le criptovalute che permettono di effettuare smart contracts vedremo tra un po' cosa sono questi smart contracts poi abbiamo tutta una serie di criptovalute che sono le più stable coins il problema principale è che il valore di una criptovaluta uscilla tantissimo e molta gente ha inventato queste criptovalute stabili la più famosa senza dubbio tether seguita dalle altre due binance usd e usd coin binance è un exchange è un exchange che si è fatto la sua stable coin binance usd e usd coin ecco per essere stabili quindi per essere ancorate uno a uno col dollaro hanno bisogno di una cosa però non sono praticamente più centralizzate o meglio sono non sono più decentralizzate sono decentralizzate restano decentralizzate però l'abbinamento uno a uno con il dollaro è garantito da un'entità esterna ad esempio tether c'è un'azienda esterna che garantisce che per ogni tether in circolazione loro possono convertirlo in un dollaro ci credono in pochi però finora tether ha oscillato veramente poco cioè ha dato soprattutto negli ultimi anni ha dato sempre dritto uno a uno col dollaro spaccato binance usd chiaramente garantisce binance usd coin garantisce più c'hanno più degli asset più visibili a garanzia poi ce ne sono altre semi algoritmi che fatti in un altro modo però spesso per fare una stable coin si perde non tanto la decentralizzazione ma la stabilità è garantita da una parte terza che a un certo punto può dire bene da oggi in poi non è più stabile quindi quindi la coin resta comunque scambiabile in via decentralizzata però priva di valore perché se dice non è più stabile ok poi ci sono parecchi exchange che hanno detto e chi siamo noi i figli della serva ci facciamo anche noi la nostra valuta e quindi abbiamo il binance coin è famosissimo tra l'altro binance coin permette anche gli smart contract perché è sostanzialmente figlio di ethereum è un semi clone di ethereum e ce ne sono tanti altri anche di di criptovalute tipiche dell'exchange di solito offrono anche sconti in commissioni o ti danno la carta di credito con delle agevolazioni eccetera eccetera se ne possiedi poi abbiamo le meme coin che sono proprio emblematiche di questo mondo doge coin e shiba inu le più famose di solito le meme coin hanno come caratteristica il cane il cane nel logo il primo è stato doge coin nati semplicemente per scherzo o come scambio di guardo continuamente in là perché mi è già successo due volte che si fermasse la registrazione o come scambio di ringraziamenti tipo ti do un doge coin per segnalarti che ti ringrazio ma non vale niente adesso ha un acquisito valore soprattutto perché sono state due bull run anche per loro poi ci sono parecchi social network che hanno tentato di farsi le loro monete telegram si è fatto ton e facebook probabilmente qualcuno lo ricorda si era fatto libra che non ha fatto un tempo neanche a uscire che è stata subito cancellata tra l'altro io mi ero pure studiato la tecnologia ma porca puzzola c'è ancora forse un video non so se l'ho tolta c'è un video su come funziona la tecnologia di Libra mandata a quel paese ok e poi vai poi ce ne sono tante altre segnalo monero celeberrima è una moneta privata cioè immaginate funziona come bitcoin ma se voi cercate di scoprire l'indirizzo di chi vi ha mandato i soldi non lo trovate se cercate di scoprire l'indirizzo a cui avete mandato i soldi non lo trovate o meglio voi le mandate un indirizzo ma quella è soltanto una maschera per il vero indirizzo e non scoprite non riuscite a capire l'importo beh se le mandate voi lo sapete l'importo ma se guardate le transazioni degli altri voi non vedete niente vedete semplicemente qualcuno ha mandato dei soldi a qualcun altro basta se siete voi una delle parti in causa vedete che ci siete voi in una delle parti in causa ma non vedete a chi li avete mandati quindi se mandate i soldi a qualcuno ad esempio non potete vedere quanti soldi ha in totale quindi è una moneta completamente privata usa dei sistemi di criptografia avanzati e per riuscire a coprire tutto e diciamo che funziona veramente quindi è un po' più lenta decisamente più lenta soprattutto nelle transazioni però funziona funziona ma come si ottengono i bitcoin? per saperlo siamo venuti al roveretto adesso andiamo al Comproerro a chiederlo niente popò di meno che a Marco Amadori siamo qui con Marco Amadori fondatore di Comproerro il primo negozio fisico dove si possono acquistare bitcoin ovviamente loro comprono erro e l'avvocato di bitcoin in Trentino advocate diventa avvocato subito certo sì beh uno dei primi ero un ricercatore in FBK sono stato uno dei primi a parlarne in Trentino facendo un po' di conferenze ma anche uno dei primi in Italia a divulgare diciamo c'era chiaramente c'erano i bitcoiner più anziani di me in Italia non tantissimi però avevano diciamo bucato meno la parte mediatica diciamo la domanda a questo punto del video è com'è che uno può ottenere bitcoin sono immagino svariati motivi ne abbiamo casualmente uno qui accanto com'è che uno può ottenere bitcoin e che procedure di sicurezza è bene che adotti ok beh diciamo il metodo migliore è farsi pagare in bitcoin per il proprio tempo quindi un lavoro esatto se nel vostro lavoro o il vostro servizio che offrite vi chiedete bitcoin questo è il metodo più semplice per ottenere bitcoin vi pagano chiaramente e non è sempre semplice ci sono anche degli intermediari per ottenerlo ce ne sono diversi tipo agenzie di paghe che tu puoi dare l'Iban di questo gruppo terzo al tuo datore di lavoro lui ti fa lo stipendio ti paga lo stipendio col bonifico come sempre ma a te arrivano bitcoin ah ok ci sono anche intermediari ci sono anche intermediari sì 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 voi pagate pagate personale in bitcoin qui? noi siamo stati i primi a pagare il personale in bitcoin prima direttamente poi avevamo usato questo questo intermediario solo per motivi burocratici chissà mai la legge cosa fa questi sono certificati va bene era solo così chiaramente inizialmente noi volevamo pagare direttamente ancora lo facciamo però avevamo utilizzato inizialmente questi strumenti e l'altro modo è ovviamente diciamo non compro euro se voi avete la fortuna di avere un compro euro vicino a voi potete andare lì entrare e comprare dei bitcoin quindi qui carta contro bitcoin cioè uno arriva con la carta e gli date bitcoin sì fate procedure le cosiddette procedure di KYC cioè quindi identificazione del cliente sì noi dobbiamo rispettare la norma italiana e a noi ovviamente non ce ne fregherebbe niente perché non è che il bitcoin non avrebbe bisogno di questa cosa dal punto di vista del business perché appunto puoi accettare bitcoin dagli sconosciuti e poi non è importante chi ti li dà che cosa faccia o meno cioè il rischio non è business del KYC normalmente il KYC serve a quello siccome tu potresti avere problemi con il cliente almeno originariamente era meglio conoscerlo per poter far rivalse di strumenti legali ma non sarebbe il nostro caso noi è proprio una norma italiana che riguarda la parte diciamo degli strumenti finanziari a cui bitcoin è pagamente correlato e quindi hanno messo per tutti gli operatori in Italia che fanno questo servizio devono fare l'identificazione del cliente e dovrebbero anche guardare i sudorini cioè ah tu stai dei sudorini mi stai portando 20.000 euro di contanti e sei un cameriere potrebbe essere sì dovremmo stare attenti a queste cose infatti siamo attenti sì sì siamo attenti se arriva qualche disperato solitamente diciamo guarda torna con un bonifico e spiegaci bene perché perché non è il caso e vedo qui a proposito di di non fare il KYC e le 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 un ATM di bitcoin cos'è come funziona e come funzionava esatto funzionava perché anche se c'è qualcuno che ancora li attivi in Italia diciamo la parola la lettera A di ATM automatic sì non è compatibile con le leggi italiane quando l'abbiamo scoperto l'abbiamo dismessi infatti è qui per motivi storici ok c'è scritto il cartellino è diventato museale funzionerebbe perfettamente però non puoi lasciarlo non atteso per le leggi italiane quindi metti dentro qui la banconote e qui ti escono le monetine di bitcoin quando funzionava tu mettevi le banconote sì e mostravi adesso è chiusa mostravi a una finestra il tuo indirizzo bitcoin sì mostrando l'indirizzo bitcoin e dopo la macchina poteva e io sono riuscito a farlo all'epoca in cui ancora esistevano tra l'altro non un poch'anni fa bolzano ed ecco il video qui ecco qui mi sta chiedendo il mio indirizzo bitcoin io all'epoca usavo un tablet che vedete qui riflesso questo tablet aveva un wallet che è lo stesso tra l'altro Electrum c'è anche per android aveva un wallet con su il mio wallet di bitcoin e mi convertiva gli indirizzi in QR e l'ho fatto scannerizzare questa è una telecamera e l'ho fatto scannerizzare ha preso l'indirizzo adesso per controllare che non fosse un pirla che mette dentro roba a caso inserisco il banco notone da 50 euro let's hope for the best ok 50 euros ok buy in BTC ha visto li compro e ha fatto la transazione ha fatto la transazione l'ha scritta sul blockchain la transazione non è ancora confermata adesso io controllo sul mio tablet se almeno è arrivata la transazione come non confermata arrived here balance ok received 5.35 mili bitcoin faccio notare che all'epoca con 50 euro compravi facciamo un po' il conto 5.3 con 50 euro compravo erano mili bitcoin quindi 5.3 ah bitcoin valeva 9.433 euro o meglio valeva sicuramente di meno ma lui me l'ha fatto pagare di più perché queste macchine di solito si salassano con lo spread done è una cosa abbastanza interessante quando era attivo c'era anche la fila l'avevamo tenuto prima attivo in negozio poi l'avevamo anche dato a un al bar di rovereto si l'ho usato anche lì esatto c'era al mani al cielo e dopo appunto cambiate la legge l'abbiamo tolti tutti ne avevamo diversi anche in altre parti d'Italia abbiamo un po' venduti e poi tenuto questo per motivi museali diciamo perché era quello branded che è carino si può acquisire bitcoin anche scambio tra privati così trovo il mio amico per strada chiunque abbia bitcoin può darti bitcoin se vuole darteli è come dire come ottengo l'oro lo puoi andare in negozio puoi andare in miniera oppure te lo da tua nonna ecco parliamo di miniera di miniera per un privato vale la pena è un po' difficile è da tanti anni il mining di bitcoin cioè è un'operazione industriale che richiede capannoni ingegneri non è più una cosa domestica io l'ho fatto domesticamente e anche quasi non domesticamente più di dieci anni fa il problema è che non è più una cosa compro un computerino lo attacco in casa e sto creando bitcoin cioè lo puoi ancora fare però non è esattamente conveniente in Italia principalmente per i costi dell'elettricità e per l'accapparramento dei miner che mentre qualche anno fa era facile ottenerne anche dai grossi produttori anche il miner singolo adesso devi avere dei contratti industriali per cui chi vuole fare mining deve creare un'azienda è come se creasse un'industria cioè una fabbrica qualcosa del genere passiamo però a quello che è il metodo diciamo più tipico di acquisire bitcoin andare sul sito fargli un bonifico più tipico più diffuso fargli un bonifico e ottenere dei bitcoin e qui ti chiedo a cosa deve stare attento uno che fa questa procedura? allora solitamente quello che descrivi tu è in realtà hai descritto dei passaggi in meno quello che hai descritto è quello che succede di proposito è quello che succede con noi con noi succede esattamente così cioè tu ci fai un bonifico anche online a comprare euro e t e noi ti mandiamo direttamente dei bitcoin normalmente non funziona così con le piattaforme chiamate exchange tu fai un bonifico ti accreditano i tuoi euro dollari dopo devi fare un'operazione di trading dopo che hai fatto l'operazione di trading devi fare un'operazione di ritiro ecco questo è il punto e normalmente alcuni se la perdono questa non togliamo alcuni la nostra grande maggioranza li lascia sull'exchange sì perché c'è una confusione incredibile anche amici miei in cui anni fa pensavo di aver spiegato bene bitcoin mi hanno chiamato quando un exchange è saltato un exchange italiano ma cavolo avevo i miei bitcoin lì e dico ma ascolta e siamo amici te l'ho sempre detto che i bitcoin non si lasciano mai su un exchange e per portarli da sé bisogna avere qualcosa al lato proprio esatto è solitamente quella fatica intellettuale che blocca le persone nel fardo diciamo vabbè tanto ce li ho lì sono su kraken sono su bitstamp cosa vuoi mai che accada sono grossi e famosi li lascio lì per comodità perché se devo venderli ce li ho già lì sì esatto questo è il dubbio quello che accade è che li perdono perché l'unico modo che solitamente per perdere bitcoin uno si immagina gli hacker cattivi che ti fanno delle cose no la gente perde bitcoin principalmente per due motivi a parte quello delle truffe chiaramente perché le truffe di solito perdono direttamente euro non hanno mai avuto i bitcoin per le truffe che leggo qui esattamente non arrivano neanche a perdere bitcoin e normalmente li perdono per troppa paranoia però è raro cioè ce ne è meno persone cioè vogliono metterli così tanto in sicurezza per cui mettono password su password su disco cifrato all'interno di una partizione con le chiavi poi si perdono una delle password i ladri non gliele iluberanno mai ma lui non li userà mai più questa è una cosa tipica dall'altra parte li perdono sull'exchange perché pensano che l'exchange sia un wallet un portafoglio anche perché l'exchange spesso lo chiamano così ecco il tuo wallet sì ah sì certo il conto presso l'exchange lo chiamano wallet per cui ti fa una confusione mi dice ah ma io ce l'ho già al wallet perché mi hanno detto che devo farmene uno me l'hanno fatto loro per me che gentili no? sì certo e invece non è una cosa che accade con compro euro soprattutto se vieni qui noi ti insegniamo come avere il tuo wallet che è solo tuo ma questa è stata quando abbiamo fatto fondato l'azienda era accaduto avevamo vivo nel cuore e nelle emozioni il fallimento di MT Gox e appunto proprio con i fondatori iniziali abbiamo detto noi non vogliamo avere questo problema cioè che ci succeda qualsiasi cosa che siamo minacciati che il fondatore impazzisca per una diciassettenne che succeda che siamo minacciati con le armi dalla mafia qualsiasi cosa i nostri clienti non devono perdere bitcoin come si fa a ottenerlo basta non avere i bitcoin dei clienti noi non abbiamo né gli euro né i bitcoin dei clienti facciamo solo la transazione proprio intermediario puro esatto per cui tu online è praticamente impossibile che esista una cosa del genere bisognerebbe un intermediario che te li spedisce al volo e noi facciamo questo servizio qui esatto perché noi volevamo che i nostri clienti non tornassero mai da noi lamentandosi che gli è successo qualcosa poi può sempre capitare ma solitamente è un problema del cliente che non fa quello che gli diciamo siamo diventati negli anni un attimino più esigenti nei confronti dei clienti nel senso che vogliamo verificare che abbiano capito come mettere in sicurezza i bitcoin e che siano sicuri che quei bitcoin arrivino ai loro figli ai loro nipoti senza problemi questo è il tipo di assistenza che facciamo disclaimer non comprate criptovalute non diventerete ricchi troppo tardi ciao se volete avere delle criptovalute vi installate un wallet personale non serve l'hardware wallet tutti l'hardware wallet l'hardware wallet mi hackerano mi hackerano non mi ha mai hackerato nessuno prendetevi i soldi che ci sono lì quei 300 euro se riuscite ecco mi hackerano mi hackerano basta un software wallet software wallet easy tac è un software come Electrum come Exodus Exodus tra l'altro è multivaluta quindi gestisce anche altre criptovalute Electrum invece gestisce solo bitcoin anzi vediamo se mi è arrivata oh forse forse ci siamo ragazzi forse è stata confermata confermata vedete 3 confirmation vuol dire che è in un blocco e ci sono due blocchi dietro vai adesso arrivano tutti gli altri blocchi in fila una volta che sei nel primo blocco poi va fatta confermata adesso posso rimandarmela indietro per fare la prossima presentazione quindi installatevi un software wallet Electrum per bitcoin Exodus per tutte le valute non è non è open source Exodus ce ne sono di open source però se volete no brainer quello va bene ok perché in questo modo siete voi che custodite le valute e non un exchange non lasciate le criptovalute in un exchange perché poi fate la fine di mount gox where is our money vantaggi e visioni future quindi vantaggi ma anche le visioni future di questa tecnologia ho vantaggi vediamo un po' i vantaggi nessuno tiene i tuoi soldi quindi non devi affidare i tuoi soldi di un'altra persona che può bloccarteli perché non so se vi è mai capitato che la banca ha problema tecnico soldi bloccati o che so la carta di credito no la carta di credito non facciamo l'esempio di American Express che non è pertinente qui ok poi puoi fare delle transazioni quasi anonime beh con monero sono veramente anonime quasi istantanee ok con bitcoin non sono propriamente istantane con lightning network sono istantane ovunque in ogni momento ad esempio se tentate di fare un bonifico col cappero che lo fate in ogni momento provate a fare il bonifico e il pomeriggio del 24 dicembre quando magari il 27 e 28 sono sabato e domenica ve lo fa partire se va bene il 29 a meno che non sia istantaneo poi alla fine del monopolio bancario sulle transazioni perché al momento c'è un vero un oligopolio perché le banche sono più di una chi non ha un conto corrente bancario può comunque trasferire del denaro è il cosdetto banking te unbanked dove te unbanked non sono quelli che pur vivendo in un paese capitalista avanzato ancora non sono degnati di aprire un cappero di conto in banca ogni tanto arriva quello con ancora però sono invece quelli che vivono in paesi in via di sviluppo che spesso non hanno una banca però hanno un telefono e lì possono installare un wallet poi il governo non ha più il controllo totale sui pagamenti perché al momento ce l'ha perché può dire alle banche non fate pagare questa persona qui e in più le criptovalute hanno un'offerta di moneta nota a priori quindi non c'è politica monetaria cioè nel bitcoin sappiamo che adesso ne escono 3,125 ogni 10 minuti per i prossimi quasi 4 anni perché c'è stato appena adesso il cambio dopodiché ne usciranno 1,8 sappiamo esattamente l'offerta di moneta ma ci sono anche degli altri vantagioni allora il primo sono gli smart contract c'è la possibilità di fare il cosiddetto smart contract il contratto intelligente parola che prima che arrivasse l'intelligenza artificiale 6 mesi fa era la buzzword del momento adesso non se la fila più nessuno c'è tutto intelligenza artificiale intelligenza artificiale sto registrando il video nel settembre 2024 ok lo smart contract è una transazione con delle condizioni in pratica un programma per computer che però sposta soldi facciamo un esempio facciamo un esempio Felix vuole fare un viaggio aereo bene normalmente cosa fa Felix paga la compagniera la quale poi gli cancella il volo e Felix deve bestemmiare e litigare tramite un avvocato per riavere i soldi con uno smart contract Felix potrebbe fare la stessa sicuramente cosa non paga la compagniera ma paga lo smart contract lo smart contract è un programma per computer che ha la possibilità di maneggiare denaro sta scritto sulla blockchain ed è istruito per controllare Felix gli dice chiaramente quale volo controllare l'aeroporto di arrivo appena il volo di Felix risulta atterrato Felix lo smart contract prende i soldi e li dà alla compagniera fine se per caso il volo di Felix risulta cancellato lo smart contract prende i soldi e li ridà a Felix easy se risulta partito ma non atterrato speriamo che non è successo niente di male ok ecco quindi di fatto lo smart contract agisce da intermediario però a differenza di un intermediario umano o anche di un'azienda è un programma per computer cioè un intermediario che fa così non guarda in faccia a nessuno esegue quello che è stato programmato e cosa molto molto importante a differenza di un qualunque programma per computer lo smart contract sta scritto sulla blockchain quindi è immutabile nessuno può metterci la manina e cambiare quello che c'era scritto e nessuno può spegnerlo perché per spegnerlo bisognerebbe spegnere la blockchain e le criptovalute che accettano gli smart contract hanno proprio un linguaggio di programmazione e eseguono gli smart contract in maniera automatica e l'unico modo per spegnerlo per evitare l'esecuzione è impedire a tutti i miner di operare tutti che non sai neanche quali sono e ce ne sarà sempre uno che salterà fuori quindi lo smart contract non solo è incorruttibile non solo nessuno ci può mettere lo zampino quindi non si può truffare ma non si può neanche fare un intervento del giudice cioè un giudice non potrebbe intervenire su uno smart contract lo smart contract esegue esattamente quello che c'è scritto nessun intervento è possibile e non si può nemmeno fermare c'è scritto quello lui lo fa punto tant'è vero che se per caso uno sbaglia a scrivere lo smart contract farà qualcosa di sbagliato tipicamente gli sbaglia proprio non fa niente e i soldi se li tiene per sempre lui cioè ci sono in giro smart contract che stanno trattenendo soldi per sempre e nessuno riuscirà mai a toglierli quindi questo potrebbe essere veramente una cosa per il futuro per tutte le volte in cui due parti non si fidano una dell'altra e devono transare in base a delle condizioni un'altra cosa nuova di questo mondo è l'equosità ICO l'initial coin offering c'è gente che per far partire il proprio progetto imprenditoriale realizza una sorta di crowdfunding dove però invece di emettere quote che si basano semplicemente sulla fiducia emette delle quote che stanno sulla blockchain queste possono essere vere e proprie azioni della nuova azienda però se fa una cosa del genere di solito ci sono le autorità di regolamentazione che gli saltano addosso quindi di solito fa invece dei buoni adesso vi spiego un po' più in dettaglio supponiamo che voglia con un esempio supponiamo che voglia costruire un albergo l'albergo luna di miele dedicato alle coppie luna di miele fichissimo faccio faccio un rendering da fuoco sul sito web e dico bene bene le stanze in questo albergo costeranno 500 euro a notte adesso fichissimo ma tu se vuoi puoi a solo 100 euro acquistare dei token che stanno sulla blockchain e che ti danno diritto a una notte nel mio albergo quindi io è il sogno di ogni imprenditore piazzo il prodotto prima ancora di avere neanche di aver costruito di aver comprato il terreno quindi io piazzo subito le camere prima ancora poi con i soldi che mi han dato quei soldi li uso per comprare il terreno costruire l'albergo poi se il mio albergo viene effettivamente fatto e se avrà effettivamente successo allora il tuo token assumerà valore perché a quel punto io vendo le camere a 500 euro a notte e magari tu riesci a vendere il tuo token a 470 a qualcuno che lo usa per comprarsi una camera ecco come funziona l'initial coin offering quindi faccio un'offerta iniziale di prodotti che ancora non esistono ecco devo dire che la grande maggioranza delle persone che acquistano questi token non lo fanno perché vogliono veramente passare una notte nell'honeymoon hotel nell'hotel luna di miele ma lo fanno perché sperano che il valore saiga cioè che l'albergo diventi così picco e così esclusivo adesso io ho fatto l'esempio di un albergo che o meglio della stanza una notte nella stanza dell'albergo che più di tanto non può costare cioè più dell'albergo più costoso del mondo non puoi pagarla però si può fare ad esempio che so l'utilizzo di un certo software che diventerà magari pensate se tanto tempo fa vi avessero dato una quota per poter utilizzare Gmail e adesso Gmail fosse a pagamento avere le quote per utilizzarla gratis ok oppure ecco una course Netflix all'inizio ti avesse venduto dei token per un mese di abbonamento a un centesimo e adesso questi token te li tira a 17 dollari quindi insomma ci hai fatto il tuo bel guadagno e più avanti più aumenta l'offerta più aumenta l'abbonamento e più tu ci puoi guadagnare poi a questi aspetti quindi di solito la gente punta molto di più al capital gain la guadagno da capitale la guadagno da plusvalenza che non a effettivamente utilizzare il token e c'è da dire che le prime ICO erano sensate non erano quasi mai nel mondo reale erano spesso nel mondo crypto stesso anche Ethereum che è la seconda criptovaluta è nata come una ICO cioè è nata come una ICO bisognava pagare in Bitcoin per avere degli Ethereum ecco e poi man mano chiaramente sono ampliate sempre di più fino a diventare truffe dopo un po' è iniziato a uscire solo truffe oppure ICO che non andavano da nessuna parte cioè tu pagavi il token e poi bye bye e quindi NISBA la loro potenza sta nel fatto che essendo su una blockchain lo scambio può venire immediatamente quindi io posso ci sono i mercati proprio gli exchange dove ci si scambia anche i token delle ICO mentre invece se mi fai il voucher di carta il significato è identico ma io per scambiarlo devo andare in giro per strada cercare qualcuno che ce l'abbia e che lo voglia quindi è quello la diversità e l'altra cosa che è nata nel frattempo nel mondo della finanza decentralizzata sono i cosiddetti exchange decentralizzati prima vi ho parlato degli exchange tradizionali che sono quelli che sono di fatto un sito web che scambia valuta tradizionale per crypto oppure crypto to crypto gli exchange decentralizzati invece altro non sono che degli smart contract quindi non c'è nessuno dietro c'è solo lo smart contract che scambia crypto con crypto quindi lo smart contract in realtà sono due agiscono su due blockchain diverse ma si parlano tra di loro uno riceve i soldi da una parte e ti dà i soldi dall'altra quindi mettono in contatto venditori con acquirenti oppure addirittura tu scambi con lo smart contract stesso ed è programmato per darti tot soldi al tot prezzo c'hanno tutto un loro meccanismo per decidere il prezzo c'è un mio corso sulla finanza decentralizzata ma ce ne sono anche tanti altri in giro per i web migliori in cui spiego come viene determinato il prezzo negli exchange decentralizzati quindi ci sono questi exchange che permettono di scambiare una criptovaluta per l'altra e essendo decentralizzati hanno il grosso vantaggio che nessuno può impedirti gli scambi quindi cosa vuol dire vuol dire che se per caso il governo mi segnala a quasi tutti gli exchange dicendo non fate scambiare bitcoin da Paolo Coletti io vado su un exchange decentralizzato gli scambi bitcoin per monero poi zitto zitto i monero me li gira in qualche modo quindi insomma ti appano ti appano la possibilità aumentano la possibilità di aggirare interventi di autorità centrali quindi aumentano la resistenza di tutto il sistema chiaramente gli exchange decentralizzati non possono scambiarti le criptovalute per le valute tradizionali al massimo scambiano criptovalute per stable coin che devo dire però in certi posti sono anche accettate le stable coin quindi potrebbe essere anche un modo per uscire dalle cripto dopo di che abbiamo assistito negli anni scorsi a una fusione della finanza tradizionale con la finanza decentralizzata la fusione si è effettuata tramite due cose la prima sono le piattaforme di prestito e come si dice in inglese è borrowing and lending in italiano è prestito e prestito di deposito e prestito e la seconda sono le carte di credito vi faccio vedere qualche esempio questo è Nexo Nexo è una piattaforma sostanzialmente è un exchange ma la sua attività co-business non è l'exchange stesso cioè non è scambiare cripto per fiat per valuta tradizionale avanti e indietro nonostante tu possa farlo ma la sua attività principale sono sostanzialmente due almeno quelle che appaiono all'utente retail vediamo 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 Nexo Aaron Interest ecco questa è una e vedete ti danno interesse se tu gli depositi il tether ti danno il 16% ammazza hanno anche un simulacro dell'euro del 15% i depositi bitcoin danno il 7% quindi alti i tassi di interesse e tra l'altro qualche anno fa ne sono falliti parecchie con queste caratteristiche cioè ti danno alti tassi di interesse zack perché poi chiaramente per pagarti il 16% su tether lui vuol dire che questi soldi deve investire in qualcosa di rischiosissimo ah scusate questo è per sei platinum se sei un pezzente 12 comunque sputtaci sopra vediamo se lo fai flessibile 9 se lo fai fisso 12 quindi addirittura 9 flessibile mazza cioè per pagarti 9 flessibile a un utente qualunque base cioè deve investirlo in qualcosa che rende più del 9 quindi investe in maniera rischiosa questo è il vero rischio vedete anche lui si è fatto il suo token il Nexo token ovviamente ce l'hanno praticamente tutti e tra l'altro se li scambia l'uno con l'altro ok questa è una delle sue attività e la seconda più famosa è la carta di credito ha una carta che ti promette questa qui che ti promette di andare addirittura a debito cioè tu gli depositi i tuoi bitcoin spendi i soldi con la carta di credito finché hai soldi in bitcoin a fare da garanzia sei a posto cosa che io vi sconsiglio assolutamente di fare mette a rischio i vostri bitcoin perché poi se il prezzo di bitcoin cala il Nexo pretende che gli ripaghiate altrimenti tutto spiegato comunque tutto spiegato da cashback eccetera eccetera ne abbiamo un altro specializzato in carte di credito commetto che tu se sei un crypto fanboy avrai anche tu la carta crypto.com chi non ce l'ha ecco qui la mia collezione di carte crypto questa non è crypto ma quasi ecco qui la collezione di carte crypto quella di Nexo ce l'ho solo virtuale purtroppo chi non ce l'ha la carta eccola qui io ho questa l'indigo e niente ti danno cashback per attirarti chiaramente vedete ricompense cioè un cashback non male devo dire peccato che devi lasciargli là 3500 euro nel mio caso nella loro crypto valuta a me è andata bene a molti altri è più quello che hanno perso con il valore della crypto valuta che trollava che non quello che hanno come si dice che hanno guadagnato dai cashback c'è pure un limite mensile alla ricompensa adesso vedete ti danno di tutto ti tirano dietro netflix spotify prime cos'è xprim invece accesso alle lounge ricordo che l'unica volta in cui si è data in una lounge ho preso i covid quindi poi vabbè ti danno anche delle cazza bubole tipo il welcome pack eccetera eccetera partnership con jet privato vabbè no comment ecco quindi c'è questa fusione tra il mondo crypto e il mondo bella impressione questa fusione tra il mondo crypto e il mondo tradizionale che però ogni tanto incorre in degli stop ad esempio guardate questo questo è una roba una cosa adesso business era sempre quello prestito e credito come vedete plans to return 100% of eligible claims vedremo vedremo ok questa è una di quelle andate in gambe all'aria perché? perché questi qua stanno sostanzialmente agendo tutti da banche o da intermediari finanziari senza avere però le regolamentazioni senza aderire alle regolamentazioni e quindi cioè loro non hanno le riserve possono fare investimenti azzardati non devono stare attenti a certi parametri di solidità chi se ne frega ecco e quindi ogni tanto qualcuno fa questa fine ne sono tanti altri vediamo se FTX funziona ancora FTX sì funziona ah ecco the website is not operational a crawl deve essere quella che si occupa di tirare su tutti quelli caduti vediamo perché è citata anche qui se guardate vedete la crawl deve essere l'azienda che si occupa di restructuring sia un'azienda che si occupa di recuperare i morti finanziari dai resistete adesso tra un po' iniziamo gli svantaggi adesso finisco un attimo con i vantaggi iniziamo gli svantaggi e poi è finita poi è finita potete andare a dormire allora si può utilizzare la blockchain per applicazioni non finanziarie? sì perché la blockchain se ci pensate è di fatto un registro che è immutabile quindi una volta che ci scrivi puoi scrivere la transazione inversa se puoi farla ad accesso controllato nel senso che se un oggetto è tuo solo tu puoi spostarlo pubblico o privato puoi scegliere tu e soprattutto con la data certificata questo è importante cioè nel senso che ogni volta che il miner risolve il blocco ci caccia sulla data ce la mette lui e c'è un sistema per controllare che non bari troppo quindi ha la data controllata cioè le operazioni si svolgono tutte con una certa sequenza certificata quindi ha un sistema di certificazione della data e quali usi alternativi possiamo fare? beh per esempio open timestamp vediamo se funziona open timestamps eccolo qui ok open timestamps è un sistema per mettere date su documenti cosa fa? ora io ve lo dico in maniera brutale sostanzialmente voi gli date un documento lui in un certo senso ve lo carica sulla blockchain e quindi voi potete certificare che il documento esisteva in quella data mettete una data a un documento in realtà non lo carica veramente ne carica l'impronta si calcola l'impronta e la carica sulla blockchain si calcola una sorta di impronta digitale e la carica sulla blockchain il sistema di fatto stuisce per qualche attività notarile cioè riesce a notarizzare mettere una data e questo già di per sé è pregevole poi inutile che vi faccia l'esempio che vi è sicuramente venuto in mente si può utilizzare una blockchain del tutto simile a quella di bitcoin anche per gli oggetti gli oggetti che richiedono la registrazione pensate ad esempio alle autovetture l'autovettura potrebbe essere un token come un bitcoin esattamente come io sposto il bitcoin quando vendo un'autovettura posso tric e tric e tric sposto l'autovettura a un'altra persona quella persona se non perde la sua chiave privata rimane comunque il proprietario dell'autovettura e lui potrà spostarla quindi può essere un registro pubblico per gestire la proprietà degli oggetti e sarebbe molto più sicuro del registro esistente peccato che ovviamente se uno perde la chiave privata addio o se un giudice deve intervenire o se c'è un'eredità tutti i casi in cui addio ci sono comunque dei sistemi anche per risolvere queste controversie ci sono dei sistemi che gli girano un po' attorno comunque potrebbe essere utilizzato per automobili imbarcazioni scherzo terreni appartamenti potrebbe essere utilizzato per arte digitale brevetti insomma tutte le volte in cui serve un registro pubblico di proprietà collezionismo e nft vediamo il collezionismo è quello qui un esempio di collezionismo è quello qui potevano le poste austriache questo è un sito delle poste austriache essere esentarsi dal rifilare a noi dei cripto francobolli e voi direte ma chi se li compra questi cripto francobolli ora vi faccio vedere chi se li compra ecco chi se li compra questa è una rarissima prima edizione prima edizione del francobollo del posto austriaco adesso quella che vedete nella prima edizione è molto più bella intonsa ancora qua sotto c'è la chiave privata è praticamente un token sulla blockchain di ethereum che io posso muovere qua sotto c'è la chiave privata se voi dite pirla hai pagato 6,90 euro per una roba che non vale niente perché questa cosa qui mi sa che non vale neanche come francobollo normale io ti dico non sono pirla perché loro oltre al token mi avevano dato anche degli ethereum per poter spostare quel token quindi qua sotto c'è anche degli ethereum per poter spostare quel token e adesso quegli ethereum vengono ben più di 6,90 euro quindi l'investimento è stato fruttifero quindi si può fare del collezionismo chiaramente questi token digitali adesso questo che ho fatto vedere io è una roba ridicola ma ce ne sono di robe micidiali che vedremo tra un po' mamma mia ma guardate che quante cavolate vediamo se voglio comprare questo crystal bear in inglese non a caso posso anche pagarlo con altre criptovalute ma guarda funziona veramente 9,90 adesso costano cioè mi si apre phantom non ci credo si può pagare con solana mi piacere vediamo indietro che qui mi sa che mi truffano ok salutiamo le post austria che paghiamo in euro guarda guarda è tutto il set fichissimo in realtà voi vi faccio notare che non è che possedete il disegno voi semplicemente avete c'è sulla rete blockchain probabilmente di ethereum scritto che voi avete sto francobollo qui ma il disegno è pubblico tipo quello con leone così mamma mia cioè faccio notare che loro li hanno fatti gratis praticamente sta roba quindi proprio spremere ok quindi collezionismo e c'è tutto il mondo degli nft che è molto simile e ve lo faccio vedere subito cosa sono gli nft non fungible tokens c'è un mio video che vi linko qua sopra questo è open z che è il market è una specie di ebay per nft questi due sono senza dubbio i più famosi collezioni di nft che esistano sono le borrowed ape e i cryptopunks andiamo su cryptopunk che sono stati i primi eccoli qui guardate questi disegni che sembrano fatti da un bambino scarso in disegno sono i cryptopunk acquistando questo qui che è in vendita la modica cifra di 60 ethereum una follia ok avete diritto al signore con la cresta bionda il cryptopunk numero uno però poi potete bullarvi da avere il cryptopunk numero uno vedo che vediamo un po' se c'è la storia della vendita si qualcuno se l'ha comprato Disney dove sono sono le vendite sotto eccole qui guardate alla faccia insomma no queste qua sono tutte le vendite sono tutte cinque anni fa cinque anni fa cinque anni fa a quattro si si no sono le vendite si si allora è stato venduto veramente da go west a non si sa chi quattro anni fa per 60 ethereum tutti gli altri sono trasferimenti quindi o il pagamento è avvenuto per altra via oppure sono trasferimenti fatti tra una persona e se stessa quindi è stato fatto un vero vendita a 60 guarda sono due trasferimenti ok quindi togliamo i transfers ah no c'è anche una vendita a 31 euro ethereum è una vendita a 0,42 ah verso sempre un indirizzo sconosciuto sette anni fa ora come vedete da qui la moda degli nft era qualche anno fa e adesso sono un po' scemati cosa hai se acquisti questa nft alla modica cifra di 60 ethereum niente cioè non hai i diritti sull'immagine l'immagine è pubblica ma se faccio save image è pubblica l'immagine semplicemente sulla blockchain di ethereum c'è scritto che hai questa nft e poi bullartene con gli amici vabbè le bori date sono del tutto simili soltanto che il disegno forse è un po' più brutto ma più interessante almeno eccolo qui è più brutto ma più interessante non sono sempre necessariamente dei disegni ci sono anche della vedete musica fotografie sport mondi virtuali arte vediamo sulla fotografia cos'ha oddio cos'è sta roba beh sono ah cioè e faccio notare che anche qui non hai diritto sulla foto se lo acquisti a 19 69 ethereum puoi bullarti di possedere questa nft va bene beh comunque le foto dai devo dire se è un'altra sono belline beh sono l'nft numero 1 in categoria fotografia mi ha sempre chiesto la musica che senso ha musica vediamo adesso non vorrei che si sentisse roba bizzarra ah però vale sicuramente 0,0047 ethereum ecco qui benvenuti nel fantasmagorico mondo del collezionismo ma abbiamo ben di peggio però lo guardiamo dopo adesso parliamo un istante di un altro utilizzo che si può fare ed è la tracciabilità sulla logistica questa è un'immagine di carrefour vedete il logo carrefour si vanta di tracciare il pollo io ho parlato con quelli che l'hanno sviluppato e effettivamente pare funzionare cioè adesso che per come me l'hanno descritto tecnicamente funzionava quindi in frattempo posso chiudere qui la baracca si chiudiamo e chiudiamo ok quindi sin dalla nascita del pollo tra l'altro noto che qui non c'è la parte dove il pollo viene fa una brutta fine ma sin dalla nascita del pollo il pollo finisce sulla blockchain ok vedete questi lucchetti stanno a significare che ogni transazione cioè praticamente il pollo è un token a quel punto è sulla blockchain e ogni volta che viene spostato da un posto all'altro si vede la transazione sulla blockchain così tu al supermercato che sei questa signora qui puoi scannerizzare il QR del pollo che è il suo indirizzo indirizzo quel token e vedi tutta la storia cioè dove è passato è come un bitcoin vedi da dove è passato e se è passato per un posto dove hanno avuto dei problemi di sanità o non ti piace come trattano i polli puoi dire vabbè io non lo compro ecco qui tracciabilità e il vantaggio rispetto a una tracciabilità classica è che una volta che passa per un posto tu non puoi più cancellare quell'informazione al massimo puoi no non puoi neanche barare sul pollo perché cioè se non lo registri qui siccome la data è certa devi registrarlo proprio nel momento in cui è nato quindi se non lo registri al massimo puoi commercialitarlo come pollo non tracciato ok però una volta che è tracciato cioè la tracciabilità ti dice che è passato di là e non c'è verso di toglierlo ecco qui passiamo ad altre cose che si possono fare non finanziarie sono i giochi i giochi e questo è stato forse uno dei primi giochi giochi barra collezionismo che sono usciti sulla blockchain la gente ha speso più di un milione comprando gatti virtuali sulla blockchain di Ethereum 2017 la blockchain di Ethereum bloccata per tre giorni questo lo aggiungo io con grande incazzatura perché volevo comprarmi degli Ethereum tra l'altro ho tentato anche di comprare questa roba sono dei gatti virtuali un po' bizzarri e la cosa incredibile è che sono un gioco anche cioè tu ti compri il gatto e dipendiamo di prenderne uno no cos'è sta cosa datemi un gatto ah no questo non è il sito ufficiale questo è il sito ufficiale eccolo qui collect and breed for whoever friends ok vediamo eh vediamo vediamo ti compri questo bellissimo gatto a un Ethereum mazza c'ha di tutto questo uno più pacato ecco questo gatto con la faccia triste e violaceo con le striature fucsia e a 0,05 Ethereum questo è un Gen Zero i gatti hanno la loro generazione questo è uno dei primi proprio uno dei primi che sono i fatti ma ancora è catatonic vabbè e dopo dopo vi spiego i dettagli e questo gatto ha dei tratti somatici potete farlo accoppiare con un altro gatto ad esempio lo faccio accoppiare con questo Gen 3 con la spada niente decidete che uno è il maschio e uno la femmina perché non hanno sesso i gatti ok e la femmina dà origine a un gattino o quindi poi potete mettervi d'accordo che o il gattino passa al maschio e in cambio di soldi dà il soldo alla femmina o viceversa se resta la femmina dà il soldo al maschio ecco e il gattino che ha origine ai tratti comuni quindi avrà magari la spada ma l'aspetto triste e non feroce e le striature ok oppure e la coda magari così col tatuaggio e il ciuffo insomma quindi potrebbe essere un mix delle caratteristiche tratti somatici dei genitori e anche dei nonni bisnonni trisaboli eccetera eccetera questo tra l'altro è un gen zero vuol dire che è uno dei primi quindi è stata fatta la generazione zero questo qua invece è un gen 3 è un figlio di figlio di una gen zero questo è un gen 10 addirittura ecco per vedete possono cioè qui per evitare l'inflazione di gatti cioè per evitare che i gatti ne vengano creati a nastro perché basta averne due e poi creare a nastro vedete c'hanno uno stato si stancano cioè dopo aver fatto un figlio i gatti si stancano questo è catatonic cioè per una settimana non può fare altri figli questo per 24 ore questo per 5 minuti questo qua è essere pronto a sfornare un figlio questo per un'ora non può fare figli cioè più ne fanno più si stancano ecco questo qua essendo un gen zero probabilmente ne ha fatti già tanti vediamo gen 17 addirittura va come strampa un altro gen zero però qui è 39 tiri e tra l'altro questo non è catatonic questo è un gen zero che ha generato poco quindi guardate c'è il gioco che mi appassiona non poco ma questo qua mi sono un po' esagerato adesso stanno esagerando un po' con le caratteristiche guardate non è introdotte di ogni tipo all'inizio erano abbastanza semplici ecco il gatto per i baffi da Salvatore Dalì 9 ethereum ok e la gente come vedete ci comprava c'è anche altra roba cos'è questo socios socios serve per spillare soldi ai tifosi delle squadre di calcio come vedete ci sono note squadre di calcio qui eccole qui che passano e hanno il loro token cosa puoi fare col token beh un pochino di cose della verità puoi farle puoi votare per cosa sarà scritto sul pullman della società nella prossima trasferta puoi votare quale è stato il miglior giocatore della partita precedente puoi votare il tuo pronostico per la partita futura non ho mai visto robe del tipo un posto in tribuna però vabbè ci accontentiamo di ste cose e niente hai il tuo token puoi scambiarlo puoi cederlo eccetera eccetera niente serve come forma di supporto alla squadra oddio questi qua sono riusciti ad andare dagli USA vabbè ok benissimo magari gli danno questa persona anch'io potrei anch'io fare i miei token i colletti i pignolazzi token vediamo qui altre cose sempre legate al calcio sorare che per me è impronunciabile sorare cos'è sorare parliamo soltanto di quello del calcio perché in realtà c'è squad su ogni sport si può avere sorare per il calcio qui no non c'è football ah lo chiamano football fantasy football è sostanzialmente il fantacalcio non sto scherzando è il fantacalcio ti compri questi giocatori ecco qui alcuni giocatori in vendita ti crei la tua squadretta e vedi ad esempio questi sono le caratteri dei giocatori i giocatori sono dei token su blockchain che tu paghi proprio c'è gente che lo fa per professione si crea la squadra cercando di acquistare dei giocatori sperando che l'anno dopo li rivenda a un prezzo maggiorato quella squadra paga per partecipare dei tornei i risultati dei tornei della tua squadra dipendono da come hanno giocato bene i calciatori in quella domenica o quel weekend a seconda di come hanno giocato bene tu segnerai un certo numero di gol e poi si vede se vinci eccetera eccetera ecco qui quindi c'è gente che lo fa veramente per professione cercando di guadagnare sia dai tornei che dal fatto che acquista magari un giocatore giovane che lo migliora e quindi l'anno dopo lo rivendono a un prezzo maggiorato qual è la differenza tra tutto ciò e il fantacalcio fatto tra amici a parte il fatto che questo puoi fare a livello nazionale e ci puoi anche mettere dei soldi anche se la legalità è da vedere la differenza sta nel fatto che nel fantacalcio tra amici se gli amici se gli amici stufano mandano a remengo tutto qui invece comunque tu sei il resto proprietario di quei giocatori cioè il giocatore è un token tuo non te lo possono togliere è di tua proprietà chiaramente c'è una copie multiple per tutti i giocatori c'era scritto anche di quante copie c'erano alcuni hanno più copie altre meno ogni giocatore resta di tua proprietà nessuno te lo può togliere anche il crypto kitty il crypto kitty resta di tua proprietà per una cosa simile è questa questa è se hai mai sognato di diventare capitano di una nave intergalattica eccola qui puoi farti la nave intergalattica qui ci sono le navi la paghi chiaramente con la criptovaluta di questo sito puoi puoi acquistarti il cibo va che bel cibo le batterie le proiettili varie altre roba puoi assoldare l'equipaggio faccio notare che l'equipaggio secondo me sono personaggi veri ah no queste qua sono equipaggio diciamo fittizio vedete leggendario raro uncommon common però puoi anche assoldare dell'equipaggio vero cioè quindi proprio avere dei dipendenti degli altri giocatori che lavorano con te fare delle missioni guadagnare soldi sempre la criptovaluta del del tuo del gioco eccetera eccetera e proprio farne un lavoro non sto scherzando puoi farne un lavoro anche qui la differenza è che tutta sta roba non te la può togliere nessuno una volta che hai tra la tua Bzzdo Odop che è la tua astronave rara vediamo come è fatta le caratteristiche tecniche ah c'è gente che l'ha acquistata va quanta gente sarà una picchissima astronave come c'è le caratteristiche per un power core un generatore di scudi che serve sempre uno driver warp uno scanner array mamma mia benissimo due batterie di missili un tractor beam quello come Star Wars vabbè ok va bene e e altre robacce simili qui puoi farti il tuo personaggio con tutti i tuoi oggetti essenzialmente è stata di un metaverso ricordo se vediamoci ancora ecco qui questo qua è un altro metaverso vedete ci sono queste questo ho già visto questo logo scusate non mi ricordo più dov'è che l'ho visto questo logo dov'è che l'ho visto ah Warner Music Group ah ecco dov'è che l'ho visto ok vedete OpenSeach si fa pubblicità Warner Music Group cos'è la bandiera con la stella di David poi cos'è questa W è un land for sale vedete questo qua lo vendono sulle blockchain di Ethereum puoi comprati dei pezzettini di terreno di questo metaverso Elvis Presley Elvis Presley in the Sandbox si chiama Sandbox ecco ci sono anche dei giochi su penso ok e poi girare per questo metaverso allegro e felice e niente di solito la gente che compra questi terreni spera che salga di prezzo è più o meno il suo motivo perché la gente comprava terreni su addirittura questo qua c'è il suo NFT no l'ho perso va bene ah questo c'è l'NFT il suo motivo perché la gente comprava terreni sul vecchio Second Life riassumo velocemente il punto cruciale di questi giochi che si amano delle cavolate il punto cruciale è che una volta che hai il terreno nessuno può togliertelo dovesse andare giù il sito tu puoi esserti fatto una copia del sito se te la sei fatta e rimetti in piedi pari e quale dietro c'è uno smart contact che gestisce tutto e nessuno può toglierti la roba cioè nessuno può togli il tuo astronave straficca nessuno forse nello smart contact può essere scritto che il padrone del gioco può fare nuove astronavi più fiche della tua però tu lo sai in quel caso perché lo smart contact puoi sempre vedere se è pubblico se non è pubblico allora il gioco non è decentralizzato quindi questi sono i giochi decentralizzati il punto chiave è che nessuno può toglierti i tuoi oggetti del gioco mentre se giochi a un gioco centralizzato il proprietario del gioco può decidere bene tizio via tutte le robe che c'ha siamo addirittura ad arrivo svantaggi svantaggi e problemi grossi che ci sono primo problema enorme grosso come una casa è tutto uno scam cioè tu nel momento in questo mondo cercano di imbogliarti in tutti i modi sfruttare perché nel momento in cui si fa una transazione crypto non si può più cancellare quindi puoi rivolgerti anche all'autorità i soldi sono andati ci sono scam dappertutto siamo di nuovo con Marco Amadori qui al compoero di Roveretto lì c'è un'intera varietà di varie truffe quelli che vorrebbero emulare un exchange per cui sono dei finti exchange però che prendono i tuoi bonifici e però non prendi nessun bitcoin ma solitamente quelli sembrano troppo complessi per cui quelle erano le prime truffe se vuoi cioè il finto exchange adesso non va hanno visto che è comunque troppo difficile per il truffato averci a che fare quindi semplificano ancora ti danno direttamente delle vittorie sul telefono potrebbero essere delle applicazioni di finto trading di finto gambling o dei giochini che ti dicono che ti danno dei premi come funzionano ti avvertono sono molto colorati ti avvertono che hai guadagnato del denaro ti consigliano o di rinvestirlo o di rigiocarlo ma per adesso tu non hai speso nulla oppure ci sono alcune varianti che per sembrare più credibili ti chiedono un po' di soldi ma non tanti tipo per iscriverti ti do 100 euro di diciamo di fish con cui giocare però ti costa solo 13 euro e intanto tu gli hai dato i soldi cosa succede queste applicazioni incredibilmente sono molto fortunate nei tuoi confronti cioè se stai giocando vinci se stai facendo trading magari fra due giorni ti arriva un messaggio che il tuo trade è andato veramente bene e cominci a vedere cifre crescenti e cosa ti chiedono dopo ti dicono attenzione dovrebbe essere proprio uno di questi voglio recuperare i miei soldi allora ti chiedono di fare bonifici per sbloccare tu hai guadagnato 800 euro guarda purtroppo abbiamo dei costi burocratici interni perché siamo controllati dalla banca centrale europea arrivano con cose assurde finte carte di identità generate con la I o anche copiate e poi ti dicono che hai guadagnato del denaro e ti chiedono di versare del denaro per prelevarlo e tu dici cavolo ma certo figurati ho guadagnato 8000 euro dal nulla figurati non te ne do 250 a te e tu gli mandi 250 cosa succede che c'è stato un altro piccolo problema tecnico però attenzione non hai più 8000 euro sono diventati 80.000 euro e per soli 2.000 euro li puoi ottenere c'è arrivata da noi gente che è andata avanti mesi a mesi a dare sempre più soldi quando sono arrivati a spendere 180.000 euro in alcuni casi certo perché se hai già dato soldi poi dici vabbè se non ne do altri perdo quelli che ho appena dato bravissimo gambler's fallacy la fallaccia del giocatore d'azzardo e cosa accade arrivano qua non ancora del tutto convinti di essere stati truffati eh sì eh sì sì arrivano anche da me sì ma arrivano ad esempio al telefono il truffatore se lo passano noi sentiamo cose completamente inventate senza senso che però sono parole che se uno non è esperto magari gli richiamano qualcosa che ha letto qualcosa che ha visto no e spesso dopo non sono del tutto convinti di essere stati truffati per cui tu gli spieghi tutto questi pensano no ma eh lo so ad alcuni dopo che gli abbiamo spiegato tutto gli abbiamo fatto vedere altri casi hanno fatto comunque l'ultimo bonifico da 8000 euro due giorni dopo con noi che dicevano ma cosa stai facendo e dopo si accorgono effettivamente non mi è arrivato niente avevate ragione voi sì ma fermati un po' diteli e devo dire tu parli di bonifici ma i bonifici la banca diciamo in estremi può bloccarli spesso ovviamente questi spostamenti spesso capita che questi spostamenti vengano richiesti ogni tanto in criptovalute quello succedeva un tempo però appunto siccome era complesso quella è stata le truffe delle prime generazioni perché le prime generazioni di bitcoin erano comunque anche quelli truffati era comunque gente che voleva imparare si metteva a smanettare leggeva delle cose per cui le truffe erano più tecniche un tempo adesso hanno completamente tolto la richiesta di comprensione adesso in realtà uno dei primi esempi è del 2014 2015 one coin sì quello famoso quello è stato famoso perché ha fatto capire che ok hanno tolto tutta la parte complessa one coin è una finta criptovaluta un finto racconto tutto dietro era tutto finto ma funzionava bene perché non dovevi sapere nulla per cui tu potevi essere completamente ignorante di informatica e farti truffare lo stesso le truffe lato cripto qualche anno prima di one coin richiedevano comunque addirittura che tu fossi uno sviluppatore cioè per cui truffavano categorie tecniche poi hanno visto che è un po' truffare anche se ci riuscivano le categorie tecniche per cui hanno tolto i requisiti di comprensione adesso possono truffare tutti benissimo ma sì dopo ci sono consulenti che ti dicono ti offro bitcoin di solito capita che a seguito alla truffa c'è la seconda truffa il consulente che ti dice ti riesco a far recuperare i soldi e ti truffa anche lui ho visto questo ultimamente sì sì anche da noi l'abbiamo visto ci sono siamo alla seconda generazione praticamente i primi truffatori hanno venduto il nome e cognome e i KYC hanno fatto KYC loro del truffato e lo vendono ma neanche direttamente lo vendono sul black market e numeri vendi rischi di gente che è stata truffata nelle crypto e ci sono altri che li comprano e dopo si presentano con siti web farlocchi ne ho visti tantissimi come aziende legali esperte per il recupero di crypto in caso di truffa e ti truffano ancora ti chiedono soldi e non succede niente ma quello è proprio ma non è che sono incompetenti cioè ti derubano cercando comunque di aiutarti no 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 è un fatto solo non ha costo zero cioè non si impegnano neanche un secondo per cui si è veramente tosta adesso ne butto là qualcuno proprio così ci sono caduto anch'io in uno scam per fortuna con una trentina di euro quindi figuriamoci allora questo è uno email ricevuto da me da Coinbase Wallet Coinbase è un note exchange all'epoca avevo l'account Coinbase 10.6.2022 mi dice guarda ti abbiamo mandato dei soldi per averli però devi connettere un wallet connettere un wallet vuol dire che il wallet può essere in un certo senso comandato dal sito non completamente comunque devo metterla a password io e loro mi volevano far connettere il mio wallet che sono ci sono dei wallet qui che sono comandabili da siti li vedete qui chi li conosce li conosce questi due prima quando ho detto Phantom si è aperto non voglio che le poste ostia che mi prendano soldi era perché mi si è aperto un wallet a tentato di connettersi ecco loro volevano connettere che io connettessi un wallet e poi che dessi la password di approvazione mi avrebbero sdruppato tutto quello che c'era in automatico quindi questo è il primo scam secondo scam il famoso scam di Elon Musk guardiamolo assieme in 5 secondi io giro l'elon musk deepfake scam solo di attività ci sono nuove scams che vengono sempre seguite like e subscribe a questo canale così non fai per le scams lo fermo scusate mi sono finito su un altro sito in 5 secondi io giro l'elon musk e questo è un deepfake adesso con l'intelligenza artificiale la gente capisce quei sono finti ma questa di almeno un paio d'anni fa e quindi sembrava veramente Elon Musk che ti diceva guarda dammi dei bitcoin lì e ti do il 10% al mese il 30% al mese garantisco io non preoccuparti ed era veramente lì e considerate che c'è gente che è caduta nel tranello in cui ci sono in cui tizi si spacciavano per me e offrivano me me Paolo Coletti offrivano 10% al mese c'è gente che c'è caduta figurarsi se non cadono nel tranello di Elon Musk e infatti abbiamo qui I got scammed and lost 90% of my life saving need advice questo qua dice che ha visto un video di Elon Musk era un official website dove ok ha detto di mandare bitcoin e gli ha mandato 0,40 bitcoin perché era veramente Elon Musk ecco ora io non ci credo a questo post su reddit probabilmente è un fake anche il post è un fake perché onestamente tu hai 0,40 bitcoin e sono il 90% dei tuoi risparmi della vita cioè è un pazzo tutti in bitcoin va bene I live in California ovviamente la gente gli ha detto bye bye soldi ecco qui quindi è un mondo pieno zeppo di scam massima attenzione c'è sempre qualcuno che cerca di fregarvi subito quando cercate qualcosa quando viene proposto qualcosa ricercate quella cosa ho scritto scam con google se arrivano parecchie persone che dicono sì sì è uno scam è uno scam anzi anche se ne arrivano poche di la verità ci sono alcuni svantaggi per l'utente però non è possibile annullare una transazione errata rubata sbaglia a fare una transazione bye bye sbaglia a fare un bonifico poi annullarlo se perdi le chiavi private perdi i soldi c'è una famosa puntata di The Big Bang Theory dove le chiavi private stanno in una chiavetta USB che poi quel proprietario del negozio di fumetti si vende per 10 dollari al momento è ancora complesso ottenere delle criptovalute vere molte persone hanno degli strumenti finanziari che simulano l'andamento delle criptovalute tipicamente su dei broker che commerciano in CFD e dicono ah io c'ho bitcoin c'hai bitcoin una ceppa tu hai dei CFD che simulano l'andamento di bitcoin quindi non sono bitcoin quindi per il momento molte persone non sono proprio in grado tecnicamente alcune lo sono e scelgono spontaneamente di evitarlo in Italia soprattutto per il tipo di tassazione che non è alto ma è veramente bizzarro e complesso da gestire però ce ne sono proprio altre che non si rendono neanche conto di non avere dei veri bitcoin e per alcune per molte criptovalute il tempo di conferma le commissioni sono un problema le commissioni sono diventate anche un problema anche per Ethereum quindi insomma abbiamo alcune minacce tecniche per il futuro le minacce tecniche sono che le regole sono difficili da cambiare in caso di problemi tecnici cioè se la criptovaluta ha dei problemi tecnici cambiare le regole è un casino perché bisogna mettere d'accordo gli utenti i miner che non si sa chi sono negli uni negli altri e hai anche gli exchange gli exchange sono gli unici che si sa chi siano i miner più o meno forse si sa chi sono gli utenti no quindi è difficile mettere d'accordo tutti ad esempio su Ethereum si è riusciti a cambiare delle regole ma solo perché esiste ancora il fondatore cioè l'equivalente di Satoshi esiste ancora su Ethereum e ha deciso lui sostanzialmente quindi tutti gli sono andati dietro anche se alcuni non gli sono andati dietro e sono impuntati e hanno fatto un fork su Bitcoin nel momento che c'è stato da cambiare qualcosa della puntista tecnico è successo un fork ma un fork pesante cioè proprio la community si è spaccata prima o poi arriveranno i computer quantistici e certe forme di criptografia non funzioneranno più molte criptovalute sono già resistenti alle attacchi di computer quantistici c'è da dire che questo sarà un problema anche per le banche poi hanno una lenta difficoltà a scalare Bitcoin fa 11 transazioni al secondo sulla blockchain non sto parlando di Lightning Network sulla blockchain fa 11 transazioni al secondo Ethereum ne fa 30 poche poche devo dire decisamente poche ok dopodiché abbiamo delle critiche sociali la prima critica che sento è che è il metodo di pagamento preferito sul dark web attenzione è vero senza dubbio sul dark web si paga prevalentemente in Bitcoin in Monero e forse qualche altra criptovaluta però non è vero che è il metodo di pagamento preferito dai criminali il metodo di pagamento preferito dai criminali restano i bronzini che usate voi per pagare il supermercato nella loro forma cartacea quello resta il metodo di pagamento preferito dai criminali ma di gran lungo voi ve lo vedete il mafioso che paga in Bitcoin io al momento siamo molto io sicuro siamo molto ma molto ma molto lontani denaro sonante e frusciante ok però sul dark web senza dubbio è praticamente l'unico metodo di pagamento è un metodo di pagamento per riscatti faccio vedere un esempio ecco qui una città in florida pagherà agli hacker 600.000 dollari per riavere il proprio sistema di computer il sistema di computer è stato attaccato da uno dei famosi virus di tipo cryptolocker che sono dei virus che bloccano tutto sostanzialmente encryptano tutto e per ridarti la password ti chiedono un pagamento gli hanno chiesto i 100.000 dollari ora la città non avrebbe pagato ma l'assicurazione della città ha pagato ha deciso di pagare all'epoca tra l'altro erano ben 65 bitcoin perché un bitcoin vale a circa 9.000 dollari il consiglio della città ha votato di pagare 65 bitcoin agli hacker gli ha pagati l'assicurazione vede a tab that will be picked up by the city insurance carrier e quindi l'assicurazione ha cacciato ed è questa molto grave perché gli si sta offrendo su un piatto d'argento un modo per essere pagati senza essere cacciati che era il problema principale di questi tipi di virus infatti avrete anche voi ricevuto forse l'email famosa ti ho registrato mentre guardavi i filmati sconci brutto porcellone ho registrato te e il filmato ora caro hacker se guardo i filmati sconci non li guardo sul monitor del portatile li guardo sul 58 pollici per non perdermi i dettagli dove non c'è una telecamera quindi non puoi avermi registrato ok sicuramente avete ricevuto questo tipo di email e e lì vi chiedono sempre riscatto in bitcoin non possono essere confiscati che è un grosso vantaggio personale però un grosso svantaggio sociale perché al criminale vanno confiscati e il mining consuma molta energia elettrica ora io ero stufo di sentir dire ipotesi completamente una diversa dall'altra su quanto ne consuma sono andato a farmi i caricoli carta, penna e calamaio sulla blockchain di bitcoin all'epoca quindi un due anni fa quando ho fatto i caricoli ho misurato quanto consuma ogni singolo computerino che viene utilizzato tipicamente quanti ne stanno usando eccetera eccetera mi è venuto che circa eravamo sui 7 gigawatt istantanea una misura di potenza vedete i calcoli di Paolo Coletti e questo due anni fa adesso possiamo stimare al massimo il doppio ma non penso che siamo arrivati al doppio decisivamente no anche perché non siamo ancora in bull run perché questo dipende da quanto bitcoin va su di prezzo perché più bitcoin sale di prezzo più sono incentivati ad accendere questi computer se scende di prezzo ne spengono qualcuni soprattutto quelli che consumano di più quant'è 7 gigawatt? è tanto è poco? ecco qui quant'è 7 gigawatt centrali elettronucleari in Francia vedete quelle più moderne sono attorno al gigawatt sono quasi tutte attorno al gigawatt vedete queste sono in megawatt ogni reattore quindi sono 7 reattori nucleari dov'è qui c'è l'immagine di un reattore nucleare di sicuro? no non c'è immaginate 7 reattori nucleari per il mining di bitcoin adesso forse ne possiamo immaginare 10 sono tanti? certo che sono tanti 10 reattori nucleari solo per il mining di bitcoin se però pensate che la Francia ha dei reattori nucleari qui ne ha uno sbordello ah c'era pure Flanville reattore 3 in costruzione hai voglia 2007 la cemento alla rete qui non è aggiornata sta pagina da una vita vedo tra l'altro reattori tutti negli anni 70 Francia quasi tutti negli anni 70 guardate e ci vendono l'energia elettrica a noi eh va bene ok produzione commerciale dismissione prevista mai ne hanno dismessi qualcuno sì ah beh hanno dismesso quelli che producono una ceppa non tengono su neanche una mining farm di bitcoin tranne il super fenix è stato dismesso ah che bello ecco comunque da parte queste considerazioni questo per darvi una stima di quant'è cioè rispetto al consumo mondiale è pochissimo rispetto però a un consumo singolo è tanto ultima critica sociale il mining è nelle mani di aziende concentrate in pochi paesi se seguo riguardiamo vediamo se ribecco eccolo qui vediamo chi è che ha fatto gli ultimi blocchi found USA antpool found USA found USA ad esempio found USA ne ha già fatti tre antpool due vedete non è che sono tante alla fine questi miner queste grosse aziende o grosse associazioni molti sono in beh USA sembra che sia in USA anche se non lo darei proprio per scontato spesso sono in Cina inutile negarlo anche in Russia perché fa freddo perché questi aeroposti producono un pozzo di calore ecco qui e con le giuste e sacrosante critiche a bitcoin bitcoin in generale le criptovalute abbiamo concluso la nostra enorme carrellata sulle criptovalute e la tecnologia blockchain è base 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 quindi se osate segnalarmi in malo se segnalate in bel modo sono contento ma se me lo segnalate in malo modo in precisioni sarete adeguatamente puniti tanto dico queste minacce alla fine tanto sono passate a circa a occhio di interrompere il video tre volte sono passate due ore e quaranta quindi direi che saranno rimasti venti spettatori e venti spettatori potranno godersi la sigla migliore che abbiamo al momento di andrea con le lanze quella milioni e poi a seguire l'inedito mexico e certificados ma adesso apro un conto titoli e compro azioni a caso perché ho sentito su youtube che si fa così arriveranno tutti i pignolazzi a dirmi no non è vero però non posso andare avanti solo comprando punto pietro io voglio fare i milioni ascoltando in prov coletti io voglio fare i milioni come mi fa Paolo coletti Io voglio fare milioni ascoltando il prof Coletti Io voglio fare milioni come mi fa Paolo Coletti Coletti, Coletti, oh 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 Quando se teme huir de los mercados nazionales Quanto quieres exponerte al mundo Pero solo ves la sobreexposición De los estadounidenses Tengo la solución pa' ti Si los análisis habituales la aburren Si los fufa gurus intentan ele Siga mi consejo Escuchirá el profesor Coletti Ma pues el profesor No podemos garantizarle un 6% al mes Pero al menos encontrarás muchas alegrías México es certificado Solo tengo un ídolo para los mercados México es certificado Miro al profe e ignoro a los pignoleros Mira los dados Que siempre me hacen feliz Miro al profe e ignoro a los pignoleros